Buonasera, buonasera a tutti anche da parte nostra, buonasera Federica. Ciao Alessandro, un saluto a tutti. Che gran serata che ci aspetta, gran serata di mercato soprattutto a tinte bianconere perché è in arrivo Zaccaria già stasera a Torino, un nuovo colpo in casa Juve, si tratta, è stata oggi la giornata di trattativa per Nandez del Cagliari, insomma una Juve scatenata che fa sorridere diversi nostri ospiti e opinionisti, magari ne fa sorridere qualcuno un po' di meno, salutiamo allora chi è qui con noi, e chi ritroviamo dalla diretta precedente, chi è appena arrivato. Sorride tantissimo Orfo John Forlino, ciao Orfeo. Come non lo vedevamo sorridere da tempo. Beh sì, dai abbiamo ritrovato un po' di entusiasmo. Non bastano i 32 denti per fare il tuo sorridere, quanti sono? 64 questa sera. Sì, doppio stasera. Saluto Franco Ordine, dall'altra parte Mimo Pesce che è serissimo invece. Buonasera, buonasera a tutti. Sumo l'avete già visto, ben ritrovato Mauro. Buonasera. E poi ci sta raggiungendo anche Furini, in collegamento Skype c'è Giordano Mischi, ben ritrovato. Un altro caso da 32 denti, Giordano, è stata una bella settimana insomma, come non te ne ricordavi da tempo? Beh è chiaro, pensavamo ad un mercato inesistente, perché come era giusto pensare, perché naturalmente chi si aspettava un colpo del genere. Qui secondo me ha fatto la differenza, un'altra volta, l'ho detto anche nella trasmissione precedente, la differenza della società che ha una proprietà che oramai è centenaria, ma soprattutto perché è prevalso anche un po' lo spirito del tifoso, più che quello dell'amministratore che vuole contenere le spese giustamente, come è giusto farlo, però quando serve la Juve la proprietà... Avete fatto un calcio mercato invernale quasi da sessione estiva, quello che non era stato in estate l'avete fatto poi in questa sessione, dicevamo, invernale, dove invece storicamente la Juve fa molto poco. Ci ha raggiunto anche Luigi Furini, ciao Gigi, ben ritrovato. Buonasera, buonasera. Però io sono un po' preoccupato, non vorrei iniziare la trasmissione con questo clima funereo che avvolge Mimmo Pesce, vorrei capire che cosa ti inquieta così tanto, il perché, sai che io ti ho molto a cuore, mi dispiacerebbe. No, io intanto ti ringrazio per la sensibilità che hai. Parto anche da te, tra l'altro, proprio per spezzare una tradizione in fausta nei tuoi confronti. Certo non sei Stefano Donate, quindi... L'hai detto tu, eh. Ma su questo non avevo dubbi. No, ti ringrazio per la sensibilità, ma è evidente che io stasera sono un po' di troppo, nel senso che il Napoli non ha fatto nulla e mi domando cosa faccio qua. Ah, dici proprio che... Penso che bene o male tutte le squadre hanno qualcosa di cui parlare. Però hai questa espressione da lutto, hai vestito tutto colorato, non so, sei un po' contraddittorio. Sì, ma non ti immaginare, perché dopo ho questo da mettere. Ah, ecco. Ah, eccola lì, giusto la mettere. Ma non ha fatto niente, perché probabilmente non avrà bisogno. Eh, infatti. Il Napoli è così, com'è più forte della Juventus. Franco, scusa, tu sei sicuramente, come si dice... Molto benevolo? No, più che benevole. Hai veramente tanti anni di carriera alle spalle per capire che non è questo... Tanti anni. Eh? Tanti anni. Beh, insomma, io me lo ricordo, io gli anni 50 me lo ricordo. E sai che non è così, perché evidentemente il problema di De Laurenti sappiamo già cos'è. Quindi vi ascolterò volentieri tutta la sera, ascolterò... Allora, faccio una cosa, io faccio una promessa, partirò quasi sempre da te ogni giro di opinioni per cercare il più possibile di darti animo, di coinvolgerti di parte... Mi devi sopportare questa sera, oh, è il mio momento, lascia, per favore. Se l'avete divertito anche Giordano Mischi. Comunque, poi torneremo anche su questo tema, ma... No, ma io, il momento di Zanforlino, momento... Eh, il momento, sì, abbiamo detto... Prima ho fatto i complimenti a Suma, è stata l'ultima squadra del pianeta a giocare con le Juve e Sentra Vlaovic. Ah. Del pianeta. Sì, sì, è vero, è vero. Beh, me ne sono anche accorto, l'ha tirato in porta una volta. Esatto, esatto. E ti è andata bene che l'hai già giocata. Perché Torino, ma dovevo farti tirare in porta qualche volta, così almeno non prendevi la parca. L'ha tirato in porta da lontano, l'ha tirato in porta da lontano. L'ha dato bene. Adesso che Vlaovic segnerà tre gol a partita... Ah, pensavo tre da qui a fine anno. No, tre gol a partita, ha cominciato domenica prossima e Mila si frega le mani. Se c'era domenica scorsa, Mila gli faceva la pettinata. Comunque, guardando la classifica che abbiamo sempre a disposizione, forse Mimmo Pesce è particolarmente inquietato, perché dato che la Juve ormai a furor di popolo, a furor di mercato, entrerà tra le prime quattro, una di quelle lì dovrà rimanere fuori, difficilmente sarà l'Inter, tu temi che sia il tuo Napoli a rimanere fuori. E qui a questo punto stiamo rischiando tantissimo, noi, Mila, l'Atelente, ma veramente stiamo rischiando molto, perché a questo punto la vedo durissima, la vedo durissima. Abbiamo già collegato a Nicolò Schira, gli chiedo giusto un minuto di pazienza, ci fermiamo subito per la pubblicità, rientro, andiamo da lui per avere tutte le ultimissime appunto su Zaccaria, in arrivo a Torino già questa sera, domani le visite mediche, ma è stata una giornata molto importante anche sul fronte Nandez, che potrebbe essere un ulteriore colpo Last Minute della Juve. Un minuto e vi raccontiamo tutto. Rieccoci, rieccoci in collegamento, allora andiamo da Nicolò Schira, che ringrazio sempre per queste giornate infinite, ma è sempre a disposizione. Ciao Nicolò, buonasera a tutti. Ben ritrovati innanzitutto, vorrei fare con te il punto innanzitutto su Zaccaria, in arrivo a Torino, arriverà stasera, domani mattina le visite mediche, quindi a disposizione già per la prossima giornata di campionato, se tutto andrà bene, faccio un po' il punto e il riassunto della situazione, cifre, insomma, dettagli e come si è bloccato. L'operazione chiusa, come abbiamo raccontato, sia la mattinata che nel primo pomeriggio, il giocatore domani farà le visite mediche, adesso è da capire se arriverà già stasera o domani mattina, si stanno organizzando, però al di là di questi aspetti, comunque domani le visite mediche, Gmedical, sono già prenotate, il giocatore firma un contratto fino al 2026, operazione da 7 milioni bonus inclusi, 5 di base fissa e 2 di bonus, è un rinforzo che Massimiliano Allegri voleva fortemente, secondo Massimiliano Allegri può essere quei franci flutti davanti alla difesa che era ad esempio Mark Van Bommel nel suo Milan quando vinse lo Scudetto e quindi, insomma, è sicuramente un rinforzo importante, ma la Juve non si ferma qui perché continuano i contatti con il Cagliari per Nathan Nandet, non c'è ancora la quadra sulla formula, stanno lavorando lacrimente le parti perché il giocatore ha già l'accordo, 2 milioni e mezzo di stipendio con la Juve, vuole a tutti i costi la Juve, sta spingendo, ovviamente il Cagliari vorrebbe l'obbligo di riscatto, la Juve vuole fare il prestito invece con diritto di riscatto, si cerca una quadra, può essere un'operazione allargata anche ad altri giocatori, ad esempio Caio George che andrebbe in prestito al Cagliari, ad esempio Giovane Ranocchia che fece gol contro il Monza in precampionato che adesso sta giocando poco a Vicenza potrebbe andare a Cagliari anche lui con la formula del prestito ed eventualmente diritto di riscatto, la Juve contestualmente potrebbe avere Giovane Ladinezzi classe 2000 che andrebbe a Torino per giocare però con la formazione Under 23, dunque lavoro in corso sull'asse Juve-Cagliari perché la Juve non si ferma a Zaccaria, vuole regalarsi anche Nandes. Tu vedi più probabile la fumata bianca o nera in base a tutti gli elementi che ci hai detto? Adesso dico proprio per queste ore. Nandes vuole andare, la Juve lo vuole, il Cagliari comunque ha preso altri centrocampisti in questa sessione di mercato quindi non è più così intoccabile, resta ottimista però le parti stanno trattando dalle tre e mezza di oggi pomeriggio e al momento insomma la quadra non c'è ancora sulla formula quindi bisognerà lavorare ancora un po' però insomma ci sono 24 ore poco meno in realtà, 23 ore e una manciata di minuti per raggiungere l'accordo quindi resto comunque tendenzialmente ottimista anche se la quadra su Nandes non c'è ancora. Dall'altra parte Kulusevski e Bentancur, il primo già in volo per Londra, il secondo insomma l'affare è stato definito, si può parlare di mancano le ufficialità ma anche in questo caso due uscite fatte per la Juve, quanto entra ufficialmente in cassa? Ma entrano 28 milioni bonus inclusi per Bentancur così suddivisi 19 di base pista, più 6 di bonus abbastanza tra virgolette scontati raggiungibili, più altri 3 milioni invece decisamente più complessi legati al fatto che il Tottenham vinca dei trofei. Per quanto riguarda invece Kulusevski è un prestito di 18 mesi, 5 milioni subito, altri 5 per la prossima stagione, più 35 di eventuale obbligo di riscatto allo scattare di determinate condizioni tra cui il raggiungimento di tot presente del giocatore e soprattutto il fatto che il Tottenham occorre stanno nella prossima stagione i qualifichi per la Champions League, una formula simile a quella che Paratici ricorderete aveva stilato per l'acquisto di Federico Chiesa dalla Fiorentina un paio d'anni fa. Sono operazioni importanti, per Kulusevski contratto fino al 2026 con Opzional 2027, per Bentancur contratto fino al 2026, Bentancur farà le visite in Sud America con lo staff medico della Nazionale Uruguayana e sarà a Londra giovedì mentre Kulusevski farà le visite domani mattina, sono operazioni chiuse. Di fatto la Juve con queste due sessioni si ripada, non dico tutto, ma due terzi di Dusan Vlaudic. Grazie Nicolò, buon lavoro, ci risentiamo eventualmente più tardi, insomma nelle prossime nostre trasmissioni, vedo lo scoramento di mio pesce purtroppo che avanza dopo minuto dopo minuto e il fatto che già sono pagati due terzi di Vlaudic questo ti inquieta forse ancora di più? Beh mi inquieta... Cioè può non essere necessaria la grande cessione estiva come tutti dicevano, no? Poi quando... Mi inquieta al tempo stesso mi sorprende, nel senso che qui c'è stato un gnègnè per mesi e mesi dove non c'erano soldi, non c'era non c'era la possibilità per nessuna squadra in generale e in particolare per i top player di muoversi e come per incanto scopriamo che la Juve può comprare, disfare... Ti sei messo la sciarpa bianconera, la cravatta bianconera... Arrivo da un matrimonio, così ero e così sono venuto, non è che... Fantastico. Devo dire la verità, di Nandez, io adesso non voglio contraddire Nicolò Schira, però le notizie che ho avuto non più tardi di un quarto d'ora fa è che Nandez ha chiuso con la Juventus ed è una voce, una fonte assolutamente attendiva perché è Gianni Bomba e quindi difficilmente Gianni Bomba. L'affidabilissimo Gianni Bomba. Assolutamente, quindi prenderanno pure Nandez, va bene, va bene, ecco io mi sento di dire solo questo, va bene. Però se posso dottore Pesce, non è che dobbiamo farci il funerale prima del morto, no? Perché adesso, ah io ho preso Nandez, ho preso Vlaovic, tre gol ogni domenica. Ma vengono a prendere anche voi adesso? Lì volevi arrivare. Non mettere il carro davanti ai buoi. Prima i buoi e poi il carro. Se metti il carro davanti ai buoi, non va bene. Inizia ad aver paura? Inizia ad aver paura? Io ho paura. E quindi il dottor Pesce, adesso, eccolo io, cosa farà Andrea? Stai calmo, stai calmo? Come ve la godo però. No, intanto scusate, la cosa che più mi fa... Messaggio di Monblano intanto che conferma, sì, Zaccaria arriva stasera, quindi Gianni Federica stava cercando di monitorare i vari voli, dovrebbe essere... Uno e trenta, eh. Quello che mi fa, tanta tenerezza... I voli privati di Caselle dovrebbe essere qui. È chiaro, arriva secondo te a Caselle dove arrivano gli altri, il volo privato. Sta partendo adesso, in questi stati. Da dove? Da Monsiglabank? No, da Düsseldorf. Sto scherzando, non c'è neanche l'aeroporto, Monsiglabank. No, voglio dire, mi fa impressione quelli che dicono, ma il mio... noi abbiamo un padrone ricco. E si vantano? Il padrone ricco che mi fa miseria, capito? A livello, capito? Cioè... Ebbè è un po' rosica, Dario. No! Il momento è questo. Sta rosicando, sta rosicando. Direi, dai. Direi, direi. E quindi... Beh, ma il padrone ricco però, però ti correggo, ha fatto un'operazione secondo me straordinaria. Cioè, fino a ieri sera si pensava, ecco la Juventus, hai soldi, come se lo poteva permettere, invece l'ha fatto lo stesso. Però oggi... Però oggi... Infatti, infatti, oggi, dobbiamo stravolgere ogni tipo di pensiero rispetto alle operazioni della Juventus. Abbi pazienza. No, scusa, ma allora, Ovlausi è un bravo giocatore, segnala tanti gol e la Juve l'ha pagato quello che l'ha pagato. No, no, sull'operazione, stiamo sul merito dell'operazione. No, dire che... Da punto di vista economico. Dire che l'ha già pagato per metà, perché ha venduto a Coluseschi e Betagù. Ma Coluseschi e Betagù a loro volta sono stati pagati dalla Juve, eh? Cioè, non è che tu... Cioè, la Juve ha pagato all'Atalanta 44 milioni per prendere Coluseschi. Sì, anche se con l'ammortamento... È una plusvalenza. È una plusvalenza. Non ha combinato quasi nulla. Adesso lo vende all'Atalanta... E fa una plusvalenza. E fa una plusvalenza. E fa una plusvalenza. E fa una plusvalenza. Adesso voglio sentire ordine Mischi e Summa. Prima però vi faccio vedere la schiera di Zaccaria. Zamporini Mischi, guardate. Ma la Juve ha chiuso. È dato via. Iguain ha fatto minusvalenza. È dato via Cristiano Ronaldo ha fatto la minusvalenza. Adesso no. Questa volta no. Oltre ai soldi che gli hanno dato il stipendio. Sai che più ti infervori più loro godono. Certo. È proprio direttamente proporzionale la cosa. Ma tantissimo godo. Fino a ieri sera si dicevano ma come fa la Juventus a spendere 90-95 milioni? Poi vedremo cosa succederà. Invece no. L'operazione della Juventus non è tanto stata pregiudicata. Hai padrone ricco che vende le panda metà. Era tutto studiato. Hai padrone ricco che vende le panda metà. Si è trattato di aspettare un giorno e vedere gli effetti per capire quell'operazione che cosa ha rappresentato. Scusate. Se la Juventus facesse tutte queste operazioni senza rimetterci. Anzi. Guadagnandoci. Perché prendo Coluseschi lo rivendo di più. Prendo Betancur lo rivendo di più. Cioè tu vuoi sottolineare che comunque la Juve ci perde. Il netto di tutto ciò è negativo. Scusami. Perché negli ultimi due anni ha fatto a un medio di capitale da 700 milioni? Se le operazioni non sono in rosso. Perché? Si parla. Non andiamo a trovare la storia del passato. Parla di questa operazione. Stiamo parlando. Dobbiamo parlare dell'operazione Blaovic, Coluseschi in uscita e Betancur in uscita. E tu adesso che tiri fuori lì. Manca solo che tiri fuori la Fiat. Dobbiamo parlare della Fiat, della Duna e allora parliamo anche di quello. Scusate. Oggi è il 30 gennaio. Arriva, arriva Giordano. Oggi è il 30 gennaio. Il mese scorso, quindi dicembre del 21, il mese scorso, la Juventus ha fatto una moneta di capitale da 400 milioni. È legittimo. Il padrone ricco ha messo 400 milioni. Però dirmi che la Juve non fa il rosso. Se non facesse il rosso non ci mette la moneta di capitale. Voglio sentire i mischiordi neanche su. Ma prima però vediamo qual è la scheda di Zaccaria perché abbiamo riassunto insomma un po' quello che è il giocatore. Dovremmo recuperarlo adesso qui insieme a Federica. Eccolo qui, Denis Zaccaria si sta prendendo. Comunque tema economico, tu lo segui bene. Hai visto che Stellanti... Alessandro scusa se ti interrompo, ma Zaccaria era stato per diverse sessioni di mercato un obiettivo del Napoli. Anche. Sì, questo per inferire ulteriormente. Non so se c'è Mimmo Pesce o se possiamo collegarci. Allora, questa è la scheda di Zaccaria. Poi volevo dire un'altra cosa dal punto di vista economico a Furini. Eccolo qui. Classa 96, 25 anni, Svizzero, centrocampista. Adesso percepisce, percepiva un milione di euro al Borussia Mönchengladbach. Il suo contratto era in scadenza a giugno del 2022. Quindi è stata un'operazione abbastanza low cost per la Juventus. 16 presenze per lui, due gol e un assist. La Juve per evitare di andare all'asta poi con chissà quanti altri club a giugno ha deciso di pagare subito il giocatore in scadenza. 5 milioni di 3 di bonus. Però Alessandro, scusami, permettimi. Io devo dire a Luigi una cosa. Qual è? È che è questa. È facile adesso far polemica con i Mangia Gianduiotti quando 3-4 anni fa ti atteggiavi allo stesso momento. Perché quando è arrivato Zhang, voi avete più o meno lo stesso atteggiamento che hanno loro oggi. Personalmente io no. Io ho fatto tanto. Adesso compriamo. No, mi rendo conto. No, ma c'era… No, no. No, c'era… Bravo, la potenza di sony. No, ma no, no, ma mi rendo conto che molti… Facciamo, diciamo… No, 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 mi rendo… Poi i tifosi che parlano al primo personal plurale. Noi? Abbiamo Agnelli Tu e Agnelli abbiamo Ordine un'operazione Un po' sorpresa Non ce l'aspettavamo in questa giornata Tutto quello che hai sentito Cosa ti fa pensare? Che commento ti fa fare? Intanto mi fa pensare Che vedo che anche Luigi Finalmente Si occupa di conti Di deficit E sono tanti Lì tenne tanti Ho preoccupato del vino rossa Di debiti E questo devo dire È obiettivamente un bel passo in avanti Perché fa capire Che poi ci sono anche differenze Diciamo Dal punto di vista Economico finanziario Tra Inter e Juve Io però devo dire che Secondo me la prima osservazione Che va fatta è questa Veniva considerato Un debuttante Veniva considerato Uno Poco conoscitore Del mercato Delle Modalità Eccetera Però devo dire Che il debutto Perché trattasi di debutto Di Federico Cherubini Sul mercato Con questa doppia Anzi Quadrupla operazione Che è vero Non cancella Come dice Come sostiene Giustamente Luigi Non cancella Completamente Il deficit Accumulato Per via Dei soldi Pagati Per i due Ma rende Possiamo leggere già Rookie of the Year Come si fa per i grandi Debuttanti Negli sport americani Ma rende tutta l'operazione Secondo me Con due grandi meriti Primo Che fino a qualche giorno fa Non c'era assolutamente C'erano delle voci Ma questi hanno saputo Lavorare Abbiamo un intervento flash Di Nicolò Schiera Con una notizia importante Di mercato Andiamo subito All'hotel del calciomercato Nicolò C'è stato il rilancio Importante della Juventus Che ha pareggiato Al prosinone Del direttore sportivo Guido Angelotti L'offerta del Torino Per Federico Gatti Dunque la palla Passa al giocatore Al suo agente Paolillo Decidere quale sarà La destinazione più gradita Ma la Juve Ha fatto questa importante Eruzione su Gatti Il Torino Stasera contava Di chiudere l'operazione Invece la Juve Ha pareggiato L'offerta al prosinone Rispetto a quello Che ci aspettava Il club Granata Sempre a proposito Di Juve Possiamo sordere Praticamente Dal mercato Ramsey Perché ha detto no A quattro offerte Quindi rimarrà in esubero Niente Wolverhampton Anche Wolverhampton È saltato Niente Wolverhampton Niente Barney Niente Aston Villa Niente Crystal Palace Senta cosa Castiglieco Che ha detto no Al Valencia Infatti stasera Partirà per Valencia Da Londra Dal Tottenham In prestito Brian Gill Che libererà appunto Il posto in rosa Dejan Kulusevski E quindi di fatto Da una parte Ramsey Dall'altra Castiglieco Dicono no a tutte Probabilmente rimarranno In esubero Nel rispettivo Club di appartenenza Mentre su Nandes Abbiamo incrociato Poco fa Stefano Capozucca Di tra pessimismo Perché comunque Giulini in questo momento È ferro Nella sua posizione Vuole che il diritto Di riscatto Diventi obbligo O tra sei mesi O tra 18 mesi In caso di qualificazione Champions della Juve Quindi praticamente Una cosa Non dico scontata Ma sicuramente Abbordabile La Juve invece Non vuole andare Oltre il diritto E quindi al momento C'è una fase di saldo Vedremo se si raperà Nelle prossime ore Il discorso Grazie Nicolò Più tardi Hai sempre buon lavoro Non so se va finito Ordine Sì no Stavo dicendo Secondo me Ci sono due valenze Questa prima Il fatto di aver lavorato Molto affari spenti E di aver preparato Appunto per l'ultima settimana Lo sprint finale E il secondo Da questo punto di vista Apre anche subito Uno scenario relativo A Di Bala A Di Bala E cioè Fa capire A Di Bala E a tutti quelli Come Di Bala Che non è Una questione Di soldi Ma è una questione Di meritare Alcuni soldi Più tardi parleremo Infatti anche Di come cambia La posizione E il futuro Ovviamente A medio termine Di Di Bala Dopo Quest'ulteriore operazione Non solo Vlaovic Ma dopo quello Che lui aveva dimostrato Con Zaccaria Intanto Federica Ha individuato Quello che dovrebbe essere L'aereo privato Con cui Zaccaria Appena partito Da Düsseldorf Esatto Sta decollando In questo momento L'aereo Possiamo vedere Eccolo qui Arriva esattamente Alle 21 E 33 Però eccolo qui Lo vediamo E' proprio in partenza Questo è il viaggio Lì c'è sopra Tieni d'occhio Fai la monblano Della situazione Voi state parlando Sul serio E' una battuta Giusto per capire Cioè noi stiamo guardando L'aereo L'aereo Di Zaccaria Di Zaccaria Perché Che fino a ieri Nessuno sapeva neanche Chi cazzo E non dire un'altra roba A chi fosse Sto Zaccaria Lo stiamo trattando Come due sessioni di mercato Allora io pregherei Federica Alessandro Io pregherei Federica Pregherei Federica Di andare su Google Zaccaria Mercato Napoli Ma non serve andare su Google Ce lo ricordiamo tutti No però se glielo sbattiamo E no E no In Napoli Se ne è accorto Di chi era Zaccaria Ma che prendiamo Sto giocatore Te ne accorgerai ancora Dai dai Comunque mi piace Perché questo è molto Ma cosa stiamo a Trovando l'aereo Di Zaccaria Amici a casa Mimo stai calmo Stati attenti che sta arrivando L'aereo di Zaccaria Mimo stai calmo Mimo stai calmo Se non lo conosci Lo conoscerai Si Si tratta di avere solo A uno che Si tratta di avere solo Un po' di pazienza Che prende un milione all'anno Ma cosa va Si tratta di avere solo Un po' di pazienza Mimo Fate rinno Mio zio mi ha chiamato Due minuti fa La Juve lo ha chiamato Vuole comprare un chiosco State comprando tutto Ma Mimo Ma è una roba pazzesca Due nel mio pregi Questo ci ha vissuto A vendere gelati Cosa fa il chiosco Di tuo zio Mimo Cosa vende il chiosco Vende gelati Panini Un po' di tutto Comunque seguiamo L'aereo di Zaccaria A questo momento Molto monblano Mi piace tantissimo Lo seguiamo Vado da Mischi Che se la ride sotto i baffi Felice per il mercato Felice per le reazioni stizzite Dei vari pesci Dei vari furini Io sentivo prima furini No sentivo Ma Mimo Anche Anguissà Volevo dire a Mimo Nessuno sapeva chi era Poi dopo Avete visto che giocatore è Non abbiamo seguito L'aereo di Anguissà Che partiva Da 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 Come si chiama Da Da Civitavecchia Per venire A Napoli Ma che stiamo scherzando Volevo è venuto in macchina E allora Adesso addirittura Mi fa vedere L'aereo Attenzione Giordano Fatti intervenire Giordano E chi è zaccheria No io volevo riferirmi Alle affermazioni di Furini Ma io dico Abbiamo sempre celebrato Marotta Come veramente Un fenomeno Perché era molto bravo Non solo a acquistare Quando c'erano i soldi Ma a vendere Soprattutto i giocatori Io mi chiedo Ma perché non si può Mettere veramente Il punto esclamativo Sull'operazione Kuluseschi Dove Abbiamo preso un giocatore L'abbiamo pagato Forse è stato preso Anche per fare un dispetto Quello che volete Quello che vuoi Però era un giocatore Che comunque non ha mai reso Messo a destra Messo a sinistra Messo in mezzo L'han provato Pirlo prima E allegri dopo Dopo quasi due anni Lo riesci A mettere in ammortamento E riesci a prendere addirittura Tutti quei soldi Ma questo Questo è veramente Un primo passo Ottimo Che ha fatto la dirigenza Bisogna fare un applauso La dirigenza della Juve Io vorrei dire Mi devo fermare però Giusto un minuto E allora vado al bar Hai diritto di andare al bar Però devi dire Tornando qui ovviamente Che bar non c'hai super alcolci No Questo no Qui a Tele Lombardia Sono in vita Perché già c'è un abuso esterno Se iniziassimo anche a vendere Qui dentro a Tele Lombardia C'è un abuso esterno Ma io non abuso esterno No no Non mi riferivo a te Era un commento generico C'è anche un abuso esterno Di cocaina Anche quella qui dentro Che io sappia Comunque lo dobbiamo far vedere Sì sì Pare di sì Al rientro Intanto che Furini va al bar Vedremo anche Caro Zanforino e caro Mischi Dove piazzare in campo Zaccaria Perché ovviamente Entrerà in un centro campo In cui c'era necessità Di qualità E soprattutto di Forze fresche Ma questo va a infierire A influire Non a infierire Anche sui tre Poi che giocano avanti Sui due bar Tu Zaccaria Ci fermiamo Torniamo tra un minuto Non so se qualcuno Vuole seguire Accompagnare Furini Al bar Che tra l'altro è chiuso Torniamo tra un minuto E siamo ancora da voi Alla macchinetta Un minuto Torniamo per le ultimissime Rieccoci Non è ancora rientrato Furini Lo attendiamo Dalle macchinette Ma perché in realtà Nel frattempo Ha avuto ordinazioni Da tutto lo studio Quindi per qua Eccolo E' tornato E' tornato E' tornato E' tornato No da tutto lo studio Da ordine Non volevo fare nomi Le hai fatti tu Allora Anche per Mimmo Luca da Vicenza Dice Mimmo Invece di rosicare Chiede al tuo presidente Di tirar fuori Qualche soldo Siccome mi stavo divertendo Voglio far vedere a Mimmo Che esce A che punto è L'aereo di Zaccaria Il grande colpo Di Federico Cherubini Perché ha preso Vlauvi Non solo Dico Complessivamente L'insieme delle operazioni Io stamattina Sono andato al mercato E c'erano le fragole A 20 euro al chilo Esatto Non le ho comprate Molto Se avessi voluto Comprare le fragole A 20 euro al chilo Mi davo 20 euro Mi davo un chilo di fragole Certo Poi vado a casa E dice Che colpo che hai fatto Hai preso Le fragole A metà gennaio A gennaio Cherubini Cosa ha fatto Cherubini Ha chiamato la Fiorentina Ha detto Quanto volete 70 più bonus Più qua più là E ha fatto partire Il bonifico E l'ha preso Così Cioè dice Troppo facile È troppo facile Eh sì Perché Tutte le volte Eh sì Sono d'accordo anch'io Voglio dire Franco È un pensiero di ieri Non di oggi Scusami Quello di Cherubini Merita rispetto Capisco il tuo giudizio Su Zaccaria Che è un buonissimo giocatore Non su Vlaovic Perché Vlaovic Onestamente Non è alta ingegneria Cioè Vlaovic sono 91 milioni Tra bonus Valorizzazione Eccetera eccetera Quindi 91 Ho visto Nel comunicato 91,6 Ho letto Di 8 milioni Al procuratore Ho letto Eh non lo so Io non ho visto Le carte Più l'ingaggio Al ragazzo 7 milioni Per 4 anni 28 per 2 Sono 56 Siamo a Un'operazione Da 160 milioni Cioè Con i soldi Dici tu Dite voi È facile Fare l'operazione Cioè Non è alta ingegneria Voglio far rispondere Ovviamente A Mischi A Zanfolin Prima Mischi Però Scusa Giordano No io volevo chiedere A voi Un giocatore Che cambia Completamente Le dinamiche Di un attacco A quanto Lo compravate Cioè No ma Il discorso Era relativo Alla bontà O meno Dell'operazione Io non discuto Questo Però Adesso io vedo Zanfolin Che mi nervosisce In maniera particolare Perché cammina Sui petali di Rosa E anche Mimmo È particolarmente Infastidito Io vorrei ricordare Siamo appena L'inizio Allora L'importanza Dell'operazione Della Juventus Alessandro È che Era Fondamentale Riparare Su un grande Attaccante E riparare Molte cose Perché la Juventus Doveva riparare Cristiano Ronaldo Andato via Con minus valenza Ken Pagato 40 milioni Che non sboccia Che se l'avessi preso io Ordine Ravezzani Mi chiamano ogni minuto Insultandomi No? Beh la fotografia È stata Li zero Sono stati Li zero Tiri in porte In Mila Juve No? È da lì che L'accelerata Morata Che ha un punto interrogativo Sul futuro E sicuramente non riscattano Di Bala Che ha un punto interrogativo Sul futuro Cioè La Juventus La Juventus Un attaccante O a gennaio O in estate Lo doveva prendere Allora la Juventus Dice Spendo 30-35 Per questo Quello O spendo La fish Fortissima Su questo qua Hanno speso Giustamente Su questo qua Ordine Ma ne dovevano mettere A posto Tante di cose Non solo Io dico questo Aspetta un attimo Ordine Poi torno anche da te No volevo dire questo È evidente che La Juventus Ha fatto Un'operazione Che è determinata Dalla resa Della squadra E dai problemi Che la squadra Ha evidenziato E quindi Avendo una classifica In cui non è Staccatissimo Dal quarto posto Dice Beh insomma Provo Il quarto posto È un punto Dice io L'Atalanta Una partita in meno Sì sì Però c'è lo scontro diretto Con lo scontro diretto Io a questo punto Me la vado a giocare E quindi Fa quest'operazione Che ripeto Ancora una volta Complessivamente Non è la singola operazione Certo Dice su Ma non è che Sono andati a prendere Il ragazzino Di 18 anni L'hanno scoperto E l'hanno portato a Torino No Ma segnalo Che per esempio Un giocatore del Porto Che devo dire Francamente Mi aveva fatto anche Una buona impressione Qui a Milano Oltre che a Aoporto Quando ha giocato Contro di Milano Questo Diaz Luis Diaz Diaz Il Liverpool L'ha pagato 60 milioni Cioè Voglio dire Se tu vai a prendere Giocatori Diciamo tra virgolette Che siano già pronti Braovic Che Secondo Qualcuno Poteva costituire Addirittura Addirittura Un piano Per l'Inter Veniva associato A tutti i club inglesi Di maggiore disponibilità Economico-finanziare E' evidente che tu Dovendo fare Dove l'avevi sentita Questa cosa dell'Inter Il giocatore Devi fare Quelle operazioni Certo Il ragionamento Che si fa E' questo Ci avevano detto A me per primo Avevo capito Che Non c'erano Le condizioni Economiche Finanziarie Per fare Quest'operazione Oggi Alla luce Delle cessioni Successive Capiamo Che le condizioni Le ha create Il management Il quale ha detto Allora Facciamo questa operazione Da 160 E contemporaneamente Facciamo partire anche Un paio di giocatori Obiettivamente Questo è Dal mio punto di vista Un piccolo capolavoro Mischi Ti do la possibilità Di replicare Poi ti saluto Dato che Insomma ho già Tirato 10 minuti in più Ah dici basta No no Staccalo Staccalo No perché La roba del tifo Della famiglia L'ha già Detta Che L'abbiamo detta noi L'invito è di dire altro Quindi sentiamo Sentiamo se lo prende L'avevo già smontata Ma ce l'ha riammolato Chiudi e saluta Dai Chiudi e saluta Questi detrattori Vai avanti Chiudi e saluta Dai Ma non so La considerazione Che ha fatto La società È che chiaramente Come aveva già detto Prima Suma Che ci ha visto a Milano Quella Juve Non sarebbe andata In Champions League Quasi sicuramente La Juve che ho visto io A San Siro Domenica scorsa In Champions League Non ci va E quindi lì È stato Il problema La Champions League Voglio dire Un minuto Torniamo Riparto dal fastidioso Zanforlin Come ti hanno definito Il molto fastidioso Zanforlin A cui voglio far vedere Poi ovviamente Siamo a Giordano Ma poi Adesso arriva tra poco Un altro Juventino Sempre da 64 denti Che riderà in faccia a tutti E andiamo a vedere Zaccaria Come si inserisce Nella Juve E come cambia Centrocampo Ma anche attacco Proprio In virtù di questo nuovo arrivo Arriviamo un minuto Ancora in diretta Qualche messaggio da casa Su questo terremoto Juve Scatenati da casa Ci scrivono Il mercato di gennaio Di questa Juve Il messaggio rivolto A tutti Che non si faranno più scambi A fine di plus valenze Ma solo acquisti Non legati a scambi Per migliorare La qualità della squadra E questo è quello Che crede il telespettatore Poi Angelo Che ci scrive da Cantù Dice Non mi sembra Che due anni fa Riferendosi a chi Ha detto Vlaovic stra pagato Quando Conte ha puntato I piedi per Lukaku L'Inter lo abbia pagato Due soldi Quindi i giocatori forti Li stra paghi E poi Marco dice Siete così convinti Dell'affare della Juve Pensate a cosa si era detto Quando era stato acquistato Kulusev Che poi c'è sempre Possa per te Mimo Perché hanno visto Che ti sei scaldato Che ti sei agitato E l'ario ti scrive Mimo ho paura? Vedo anche una mano Che fa così In questo messaggio No io non ho paura Perché io sento parlare Di Blavlic Ma Blavlic Con il Nepoli Giusto Lo dico Il nostro amico a casa Non ha visto Pelle Ma proprio non l'ha vista Pelle Ha vinto 5 a 2 A Napoli La Fiorentina In Coppa Italia Sì ma Blavlic Non ha visto Pelle Ma la Fiorentina Ha fatto i 5 lo stesso Capito ma io sto parlando di Blavlic Adesso stiamo parlando di Blavlic No ma lui si riferisce Con Koulibaly Non ha visto Pelle Non ha visto Pelle Ha dovuto andare nello spogliatoio A fine partita E farsi dire Scusatemi fate vedere un attimo il pallone Anche il Fiorentina Milan Quando ha giocato Tomore L'ha visto Quindi la Pippa No 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 Giocatore meraviglioso Giocatore meraviglioso Che però deve dimostrare Però se tu pensi Se tu pensi ormai Che No 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 La formalità Con i petali di rosa Per la Champions League È un problema tuo No assolutamente no Comunque questo ragionamento Che Blavlic Con le big Accusa un po' Non lo sento la prima volta Da subo Non lo sento la prima volta Da ordine Non lo sento la prima volta Da pesce Ma se ne parla Già da tutta Settimana Certo è che Il peso delle responsabilità Indossando la maglia Della Juventus Aumenteranno ancora di più E' chiaro che deve dimostrare Ancora molto È un ragazzo di 22 anni Ha fatto bene alla Fiorentina Perché è stato anche Una sorpresa Come 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 calciatore Aggiungo Adesso deve dimostrare Ancora tanto Anche Fiorentina Inter a Firenze Io volevo Un ulteriore Rispondere un po' All'osservazione pertinente Di Mauro Prima quando diceva Quando diceva La Juventus Perché non lo ha preso prima Io credo che Quello che è successo oggi È la risposta Al fatto che la Juventus Non l'ha preso prima Perché non c'erano i tempi La Juventus Per chiudere quell'operazione lì Doveva già avere Imbastito E qui mi riallaccio All'analisi Che ha fatto Che ha fatto prima Franco Che condivido pienamente Doveva trovarsi Nella condizione Di avere già Delle certezze Sui due giocatori In uscita Ma quello che tu dici Non è stata La popolta Dell'attacco Dimostrato In tutto gennaio Conclusa C'è un aspetto economico Perché fino a ieri Che cosa si è detto Si ricordavano le parole Di Arrivabene Che diceva Ed eravamo tutti convinti La Juventus Non avrebbe fatto mercato In questa sessione Poi invece fa mercato E fa un grande colpo Quindi Tutti un po' sorpresi Scusami La dichiarazione A proposito del mercato In questa sessione Di Allegri Che dice Siccome è Un fuori classe Io faccio un riferimento A quella di Arrivabene 99,9% Non si muove niente Invece E quindi Che era un ritornello Caro a Galliani Si è lasciato Ceneva sempre Quello 0,1 Per poi riuscire Saluto un altro sorriso 32,64 128 denti Non so Valtteri a caccia Ciao Valtteri Ben ritrovato Guarda come sorridente Ciao a tutti A posto Ma che bel sorriso Saluta in particolare Mimmo Pesce Che è particolarmente Giudi Morales Sei a mare Che ti vedo così sorridente No Appena tornato dalla montagna Ciao Mimmo Adesso Avete scordi Adesso vedi il maratina Vercelli tu Blaovic 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 Questa danza Che fai a caccia Per Blaovic Tu dici Maoi Ma pensavo che dice Registriamo Registriamo No No Magari potrà servire Ciao Mimmo Io uso solo i miei copyright Ciao Mauro Io vorrei che Faceste mente locale Alla danza Che era stata fatta Sempre in queste nostre trasmissioni Sempre in questi studi Sempre per un altro Ex giocatore della Fiorentina Felipe Melo Ci fu una danza Davanti alle telecamere Per l'arrivo di Felipe Melo Molto gettonata Che poi divenne virale Che poi rimase lì Io fossi in Walter Ecco Così Però quella era Quella danza era Insomma diciamo Anche un po' Va bene Al limite Era un po' Come dire Ma di danze Ne abbiamo viste Tante Lui la fa Walter la fa in maniera dignitosa In maniera dignitosa Elegale Non in nudo Non in nudo Però la fa Aggiungerei Di danze L'abbiamo viste Perché interviene Zanforlini Perché di danze Ne abbiamo viste tante Ma anche di calzonette Ne abbiamo sentite tante Zanforlini Sta parlando con gli echecce Stai parlando con gli echecce Tu che ti menzi Lei sono giuventino Fastidioso Zanforlini Questa sera sono Zanforlini il fastidioso Ci è fastidio E allora devo fare Devo essere coerente Infattizziamo Il picchio Zanforlini È arrivato Il picchio Zanforlini E ripeto E ripeto Interviene Di danze Di danze Come il prezzevole Prezzemoline Di danze di balletti Ne abbiamo visti tanti Qualcuno ce lo ricorda Curini Io quello che Non mi ricordavo Di questo episodio Ha ragione Meuro Guarda è arrivato Filippe Meuro Curini un'altra Siccome c'è aria di festa A casa bianconera Io vorrei fare la domanda A chi Di bene a chi Anche se non interviene Zanforlini Al popolo bianconero Compreso Zanforlini Qui La domanda A Siccome state festeggiando La domanda A È questa Avete Pensate Credete Di poter vincere Quest'anno Lo scudetto Risposta secca E a caccia Zanforlini Ma che domanda è Pensate Credete Ipotizzate Quanti minuti Prima di fare questa domanda Che pensiero hai avuto Dimmelo La domanda La domanda La domanda Che non abbiamo soldi Cerco di ridimodularla Pensa Allora Dato il clima Di festa Mi spostano Mi spingono No no Sono indicazioni Che arrivano Mi spostano ancora un po' Franco No facciamo così Walter Te la faccio io In modo che magari Ti irriti di meno L'obiettivo Raggiungere Milano E Napoli Ma arrivare magari Secondo L'obiettivo è puntare Addirittura Il primo posto E ridurre quel gap Di 11 punti Che oggi c'è Tra Juventus E Inter È troppo Pensare a questo Con un girone Di ritorno davanti Ma scusami Solo uno stupido Può pensare a questo Permettimi Non è che l'Inter Non ha fatto mercato Ha fatto mercato Anche l'Inter Ma l'Inter Non ne aveva bisogno Come la Juventus Scusatemi L'Inter È un'ottima squadra Non è che Mancano 30 partite Mancano 18 17 partite Quindi Sono uno stupido Potremmo pensare Che la Juve Può raggiungere Sui numeri Siamo sempre Ma allora Scusami Walter Non capisco La festa Cioè La festa Che abbiamo preso Un gran giocatore Beh la festa Che dopo l'inizio Di stagione In cui la Juve L'ottava in zona retrocessione Può pensare a qualcosa di più Il San Corrado La festa È quando Andiamo a vedere Come e dove gioca Zaccaria Nella Juventus Abbiamo preparato Due Juventus alternative Le faccio vedere a tutti Parto ovviamente Da Zanforlina Da Iacaccia Poi lo commentiamo Anche con gli altri Nostri ospiti Abbiamo messo Con la relazione Giù due Juventus La prima è questa Con il 4-3-1-2 Dove Zaccaria Si va a inserire Davanti alla difesa Con Meccanio Locatelli Mediana Di Bala Verrebbe leggermente Arretrato Per fare quel ruolo Che probabilmente Un po' più gli piace E gli lascia più libertà Con doppio attaccante Quindi Vlaovic E Morata Questa è la prima Delle due Juventus Andiamo a vedere Anche quella Che è l'altra Possibile Juventus Mi direte voi Anche se è più o meno Probabile Rispetto a questa L'altra Juventus Invece Che schiera praticamente Un 4-3-3 Molto più simile A quello usato Fino a questo momento Quindi Zaccaria Meccanio Locatelli Quadrado Che farebbe L'esterno alto Come ha già fatto Più volte quest'anno Di Bala Più leggermente Decentrato Sulla sinistra E Vlaovic Fare poi Decentro avanti Da Boa Lì davanti Zanfolini Quale userà Allegri Quale ti convince di più Quale può avere più potenziale A me convince molto di più La prima Perché fortunatamente Quindi quella col 4-3-1-2 Quella con Di Bala Vicino a Vlaovic E a Morata Sarebbe veramente Un colpo grosso Riuscire a giocare In questi termini Anche perché comunque Sarebbe una squadra Un centrocampo Soprattutto In grado di sorreggere Un'artiglieria Così Così forte Nel reparto avanzato Di Bala vicino Di Bala vicino A Vlaovic Secondo me Sarebbe Formerebbe Una coppia Sinergica Non riesce Di essere Troppo offensivo Per il gioco Non in generale Ma per il gioco Di Allegri No ma con Zaccaria Meccani E Locatelli Secondo me È un centrocampo In grado di supportare Questi tre attaccanti E fortunatamente Non vedrei più Di Bala A sacrificarsi Sempre Costantemente Nel dover rientrare Per fare D'accollante Fra i reparti Invece Sfruttare Tutte le sue Qualità Tecniche E soprattutto Tecniche Negli ultimi 20-25 metri Senza uno Dispendio Voglio sentire Iacaccia Sui moduli Poi mi ha chiesto La parola Sia ordine Che furini Quindi arrivo da voi Iacaccia Quale ti piace di più Walter Delle due Juve Che abbiamo Ipotizzato Proposto Magari ne vedi Una terza Ancora alternativa Non so Ma a me piacciono Tutte e due Assolutamente Poi Dico semplicemente Che sono contento Perché Vlaovic Era la puntata La punta che ci mancava La punta che voleva Allegri E secondo me Con Vlaovic E se prendiamo Questo famosissimo Zaccaria O Zaccaria Non so come Si pronuncia Penso Zaccaria No Questo Insomma Centrocampista Secondo me Possono giocare Con un 4-2-3-1 Come se vi ricordate Quando giocavano Mandzukic Di Bala E Quadrado Con Iguain Prima punta Allegri Lì aveva trovato Una soluzione eccezionale Per cui adesso Sta anche un po' Ad Allegri All'amico di Francoordine All'amico di Mauro Suma No Trovare la squadra All'equilibrio giusto Anche perché adesso Non ci possiamo più nascondere Dopo che Insomma Hai preso Vlaovic 90 milioni Capo cannoniere Della Serie A 22 anni Io mi ricordo Perfettamente Cosa disse Andrea Agnelli Tre anni fa Adesso andremo Alla ricerca Dei Cristiano Ronaldo Dei 20 anni 22 21 E quindi Ha mantenuto La parola Perché adesso Sembra quasi Che Andrea Agnelli Non c'entra più niente C'entra solo Arriva bene Si va Insomma Poi è vero Non abbiamo più Il pippone paratici Vabbè Parleremo tra poco Che è il paratici Che ha causato La rivolta La domanda B Qual è la domanda B Sì Pensa il popolo Bianconero Ritiene L'idea Plausibile Che possa L'anno prossimo Quindi Campionato 22 23 Vincere lo scudetto Assolutamente sì Ma secondo me Con l'acquisto Di un attaccante Di questa Di questa Di questa importanza Secondo me La Juventus Può puntare Il prossimo anno Per vincere il campionato Però Attenzione Io vorrei fare una precisazione No no Siamo tutti Degli sprovveduti Finisco No no Già fuori Se c'è il notaio Per favore Perché qui bisogna Vincere con il notaio Certo Mimmo fai tu il notaio Perché noi In un momento Noi siamo abituati Ogni anno a dire Che partiamo per vincere Se ne occupa Mimmo Che ha una memoria Tra l'altro Quasi d'elefante Mimmo si sta segnando tutto E al momento opportuno Tirerà fuori quello che serve Ordine Hai visto le due Juve Con Zakaria e Vlaovic Quale ti convince di più Tu conosci molto bene Allegri Quale pensi anche Che metterà in campo Secondo me La prima Nel senso che Con il trequartista Faccio no Ma io perché faccio Questo ragionamento Sì Per recuperare Tu devi provare a vincere Il maggior numero possibile Di partite Ne hai davanti 15 Devi provare a vincere Il maggior numero Certo se ne vinci tutte E 15 42 più 45 Fa 87 E magari arrivi anche Primo No primo non credo Però L'Inter E poi visita L'Inter L'Inter può essere Una quota scudetta Ma l'Inter è a 53 Con una partita in meno Con una partita in meno Scusami Allora Io dico questo Secondo me Quindi lui Punta su quello Rivediamola intanto Quella di cui sto parlando Allora Però questa secondo me Dipende da Un fattore E cioè McKinney Ha un'eventuale Alternativa Di maggiore Solidità Di maggiore Come dire Sostanza Spessore Di natura Tattica Perché Questo potrebbe essere Eventualmente Un'alternativa Cioè se Di Bala Non potendole far giocare Tutte Di Bala McKinney Passa davanti Al posto di Di Bala E Al posto di McKinney C'è un centrocampista C'è fuori Rabiot però Attenzione C'è fuori Rabiot E c'è fuori E c'è fuori Arthur Ma io credo che Questa potrebbe essere Un'idea Veramente Si è ben sentito anche Che rimane Ramsey Anche se immagino Che giocherà pochino Secondo me questa è un'idea Sostenibile Dopo che ha rifiutato Quattro squadre Anche se prende tutti Anche nel momento in cui La Juventus si sta parlando Che è interessata Anche a Nandes Potrebbe essere invece Quel giocatore Che andrebbe Sostituire alla bisogna McKinney Esattamente in quel ruolo Scusami Prendiamo quello Che ci ha detto Schira Da calciomercato E cioè Che la Juve Starebbe soffiando Un giocatore Dal prosinone Al Torino Ricci No Gatti 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 Il difensore più promettente Di questa prima parte Di Serie B Insomma Difensore su cui Tanti occhi Sono andati E quindi questo Ti fa capire Che per esempio Qual è L'altro L'altra casella In cui la Juventus Deve intervenire Magari se non interviene Adesso Interverrà a giugno Sì Il centrale di difesa Se no Secondo me Il sinistro Perché tra Alexandro E Pellegrini Ah ok Però L'importante È che non toccate Alessandro Ho detto il centrale di difesa Perché Bonucci Pellini Prendo poi Il grande rinnovato Quello lì È importante che resti lì Lì davati a Cerni Ci vuole Alexandro Speri un altro regalo Vuoi un altro regalo Tu lo vorresti sempre lì Ma lui lo vuole Io lo voglio regali Io dico che deve stare lì Vorrei sentire anche Suma Su queste varie possibilità Di modo che Loro ce lo vorrebbero prendere Come vedi insomma La Juve di questa seconda parte Di stagione Alla luce delle due nuove entrate No capisco C'è anche chi parlava di Juve Con centrocampo a due Mi sembra un po' strano Sarebbe una rivoluzione totale Per Allegri Quindi due E poi tre Dietro l'unica punta Vlauvić Un po' di 4-2-3-1 Allegri l'ha fatto ultimamente E l'aveva fatto anche l'anno In cui poi è andato in finale Di Champions League a Cardiff Quindi è un modulo che Che ha nelle sue corde Comunque Se dovesse avere voglia Di accelerare farebbe Non io capisco Che piaccia la Juve Quella Dei tre Con Di Bala Morata Vlauvić Ma Quella super offensiva Vedo poco equilibrio dietro Vedo poco equilibrio dietro È vero che Zaccaria è un buonissimo Frangiflutti Però vedo Quadrado quest'anno Non è il quadrado Della scorsa stagione E metterlo Esterno destro Di difesa È un azzardo Che infatti Allegri Tende a non fare È rientrato Danilo Potrebbe essere È una carta alternativa Volendo Questo modulo Ma con Danilo Bisogna stare attenti Bisogna stare attenti Agli acciacchi Di Bonucci e Chiellini Secondo me Il Busillis Il Rebus è dietro È dietro Perché adesso Allegri Perché Sembra facile Allegri Ha messo a posto La fase difensiva La Juventus Prende pochissimi gol La Juventus Fa molti clean sheet Quindi Tu dici Ha messo a posto La fase difensiva Prende Vlauvić E aggiunge i gol E no Perché Tu hai messo a posto La fase difensiva Con una trazione Anteriore Se adesso invece Sposti l'asse in avanti Che è comprensibile Da un certo punto di vista Bisogna vedere Se poi L'equilibrio Che era giunto dietro Resta Quello bisogna vederlo Quello è il campo Che ce lo deve dire E bisogna vedere Mi ha detto tante cose Però ultimamente Abbiamo visto Una Juventus Giocare a 4 in mezzo In mezzo al campo Quindi con due mediani Praticamente Poi sugli esterni Erano Kuluzeschi Bernardeschi Quindi giocatori Non è che siano tanto votati Nella fase difensiva In questa soluzione Invece c'è comunque Sempre Di Bala Che si può abbassare Se mi ascolti un secondo Nelle ultime 17 parite Di campionato La Juve ha preso 11 gol Quindi la Juventus Ha abbassato La Juventus La quadra dietro L'ha trovata Il problema è stato Fargli i gol No esatto Però tu adesso Perché prendi Vlaovic Perché vuoi fargli i gol Quindi Sposti Cambi asse Cambi trazione E sono cose Che non è che si fanno Così schioccando le dita È una fase Di passaggio Perché se tu Poi per carità Se lui fa Più gol Fa più gol Di quelli che prende Ha ragione Allegri Però adesso Il gioco Non è più Limitarsi a non prendere gol Bisogna farlo Bisogna sbilanciarsi E bisogna vedere Cosa succede Valtteri a caccia Non era ancora collegato Ma il nostro Nicolò Schira Live Dall'hotel del calciomercato Ci ha raccontato Come l'operazione Nandez Non sia per il momento Verso una buona risoluzione Perché Cagliari fa muro E Cagliari vorrebbe Un impegno maggiore Da parte Della Juventus Vediamo però L'abbiamo preparata La scheda proprio Di Nandez Lo chiedo a Federica Di recuperarla Quando riesce Perché è un giocatore Che quest'anno a Cagliari Abbiamo visto giocare Sia da esterno Sia però da Mezzala nella mediana E quindi potrebbe essere Nel caso riuscisse Ad arrivare subito Un'ulteriore alternativa Proprio in questa Centrocampo a tre Dove si diceva Manca proprio Forse un vero Frangifrutti Milioni e sei Questa è la scheda Di Nandez 1 e 6 Noi mettiamo sempre L'ingaggio netto Quindi dovrebbe essere In gaggio netto 26 anni Uruguayano Centrocampista Ha un contratto In scadenza nel 2024 Però sappiamo Lui già l'anno scorso Voleva lasciare il Cagliari Era stato molto vicino All'Inter C'è quella mezza promessa Che il Cagliari Ha fatto a lui E il suo procuratore Quindi qualora Dovesse esserci la squadra Motivo per cui probabilmente Il rendimento di quest'anno Per l'altro è un giocatore 17 presenze Nessun gol E due assist Per l'altro è un giocatore Che sa interpretare bene Due ruoli Cioè può fare il centrocampista Ma anche l'esterno Quindi alla bisogna Come per esempio Mi riallaccio All'analisi che faceva Mauro Nel caso di un centrocampo a tre Alla bisogna può anche togliere Cioè se è un centrocampo Togli il bala Metti dentro Nandet Ti rimetti a quattro E riequilibri Il problema Tutto quello che volete Però il povero Mazzar Sì Che sta al terzo Ultimo posto in classifica Mancando appunto Queste 15 partite Credo Beh ma Nandet Luigi Nandet E tutto Ha fatto tutto il 2021 Anno solare Con la testa via dal Cagliar Sì da scontento In casa Ho capito però Io se fossi un presidente O un allenatore Gli do un 1,6 Il Cagliar avrebbe lasciato partire Facilmente Nandet All'Inter All'Napoli Alla Juventus Se fosse Avesse 7,8 punti Ma tu l'hai tradito Hai preso Don Fris No capito Però capito Adesso c'è Il povero Mazzari Per finire il discorso Si trova Tra tutti i uomini in classifica Gli porti via Nandet Non è contento Quindi capisco che Il Cagliar ridica A chiunque Non alla Juve A chiunque Lo volete I soldi E vai Non che tu Me lo prendi in prestito Io vado in serie B All'anno prossimo Me lo rimando indietro Ci ha detto Giolini Ha detto Va bene Ma ci deve essere L'obbligo Dell'iscatto Con il prestito Non è convinto L'operazione Ma tu immagina Che il Cagliar Che il Cagliar Da Nandet Il prestito All'Iuve Facciamo un esempio All'inizio che volete Vai in serie B L'Iuve non lo riscatta Se lo ritrova Con un milione e sei In serie B Ha un ringazzo Di un milione e sei E non funziona A quel punto L'Iuve comincia a parlare Ma rischiamo di andare In serie B Comunque Avendo adesso Quindi non sarà certo Quel giocatore lì Che ti manda in serie B Sì ma porta rispetto Al Cagliar Visto che gli vuoi portare Via Tutto il rispetto Di questo mondo No no Non ero d'accordo Con la sua Con la sua osservazione Cioè Non era Non la trovavo No Non so La scarpa vecchia Se si salva Se si salva Se va in serie B Ci va con O senza Non è vero Se ce l'hai giunta adesso Hai detto il Cagliar Va in serie B No 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 Se ce l'hai messa adesso Non ho detto che va in serie B Sì E fa ticchi ticchi Hai capito Ticchi ticchi Ma scusami Da fori scusami Che fastidioso Se tu ritieni Se tu ritieni Che la Juve Possa migliorare Il centro campo Con Nandes Lo speriamo Dai Sì certo Perché Dici Che il Cagliar Va in serie B Senza o con Nandes Non è vero Se Nandes Si trova a dodici punti In classifica Tredici Quanti sono Non vedo da qui Dodici o tredici Quello che sono Diciassette 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 No Mi sono sbagliato con Genoa A diciassette punti Voglio dire Questi diciassette punti Li ha costruiti Con 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 in rosa Nandes Quindi Ha giocato poco A maggior ragione Se non lo fanno giocare A maggior ragione Se c'è Nandes Ho speranza Di farne Un po' di più Nel giorno di ritorno E magari di salvarmi L'ottima domenica Senza Nandes Sono condannato All'abbì sicuro Ma questo La Juve non interessa Minimamente Il problema è il Cagliari La Juve non interessa E allora E allora Dignelo ai Cagliari Ma guarda che tono Che ha nei confronti Del Cagliari E no Perché tutto poi Viene focalizzato sempre lì Cioè Sembra che la Juventus Come al solito Va a indebolire Le altre squadre E gli frega Se tu ritieni Se tu ritieni Stai trattando col Cagliari Che è una società Che ha la sovranità Sui sui giocatori Legittima Non capisco perché Questo tono Facciamo intanto a vedere Facciamo intanto a vedere Io non ho detto Facciamo a vedere Io non ho detto questo Il monitoraggio Che Federica sta facendo Caro Walter Già da più di mezz'ora 40 minuti Perché faccio vedere C'è una Federica di Bartolomeo In versione Luca Momblano Perché faccio vedere Con il monitoraggio Dell'aereo di Zaccaria Si può zoomare In questo momento Sta sorvolando Le Alpi Le Pontine Ma voi stane facendo Su serio Guarda Puoi zoomare Un altro po' Poi entrare anche Nell'aereo Direttamente Guarda Noi stiamo controllando Veramente Cioè Guarda qua Dove hai appena passato Sul pizzo Cioè questo è l'aereo Di Zaccaria Perché va veloce Zone che tra l'altro Conosce molto bene Mimmo Pesce Nelle tue varie esperienze Per il mondo Anche lì da queste parti Svizzere No sei stato più volte Io trafficavo In gioco di cioccolato Da giovane Ma voi stiamo Ma voi stiamo veramente Controllando L'aereo di Zaccaria Cioè il brigadiere Cioè noi stiamo controllando Perché ragazzi Tenetevi forte Perché fra un'oretta Arriva lo schello Di Meno 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 Non c'è bisogno Che lo sottolinei E per quello che la vogliamo In Nepoli Che ha preso informazioni Di te bai sto zeccheria Una pipa Non ci interessa più Poi posso fare Le domande a C Walter Sì un attimo Aspetta Voglio sentire Walter Su questo Anche perché su Zaccaria Non sia proprio Completamente ancora espresso Poi c'è la domanda a C Zaccaria Ti devo dire la verità L'ho visto molto molto poco No non lo conosci proprio Di la verità Come l'abbiamo detto tutti qua Non c'è mica niente Di vergognarsi Venti di Echece Guarda che dire Non lo conosco È un atto Veranchissimo E cosa sto dicendo Beh l'abbiamo visto Tutte e due Nel doppio Italia-Svizzera Ma chi l'ha visto Ma chi ha notato Zeccheria No io do un consiglio Bonario a Mimmo Pesce A cui voglio molto bene Che mi è molto simpatico Mimmo lascia sta Zaccaria è buona Sì sì va bene Io l'ho visto L'ho visto in Italia-Svizzera Era buono Doveva vincere La Champions Lux L'amico Echece Beh arriva in Edo Vinceremo la Champions Devo ricordargli il suo presidente Il discorso del suo presidente Eccolo lì E allutto L'inizio serata Sì C'è la domanda C di Furini Lascio la suspense Della pubblicità Rientriamo con la domanda C La terza che farà Furini A Jacaccia Sperando insomma Che non lo facci irritare Come le altre due Un minuto e arriviamo Ancora in diretta Ancora in diretta Rieccoci Messaggi da casa Da casa fanno dell'ironia Questo telespettatore Dice C'è una clausola Per il nuovo attaccante Della Fiorentina Se segna 20 gol Passa direttamente Alla Juve E poi ancora scrivono La Juve si è fatta scappare Gosens Con cui sostituire Alexandro Giocatore fortissimo Ancora uno Ci dice il telespettatore Con il giocatore più forte al mondo Ronaldo Avete vinto solo dei campionati Con questi nuovi acquisti Cosa aspirate a vincere? Sì Anche se Gosens Nei quattro Faccio fare il terzino basso Nei quattro Non è proprio il suo ruolo Come dire Preferito e principe Dicevi Zanforlin Intanto di qualificarsi Per la prossima Champions Che è l'obiettivo minimo Poi quello che sarà Delle prossime stagioni L'obiettivo categorico Direi a questo punto Minimo e un po' riduttivo È categorico Se la Juve quest'anno Non va in Champions È un fallimento totale Come ricordava bene Prima Franco Cioè la Juventus Deve fare il meglio Di quello che può fare Deve fare meglio Di quello che ha fatto Nella prima parte Della stagione Sicuramente Però il destino Non è nelle sue mani Non vale il destino Ma tu parli il destino Dipende 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 molto dal Napoli Dipende molto dal Milan Dipende molto dall'Atalanta Fino adesso Se loro non perdono Neanche una partita E io che è Cioè vi siete riempiti La bocca Fino adesso La classifica parla chiaro Il Milan è secondo Napoli Tanto E Atalanta Quanto E Gula Ma come si chiama L'altro lì Eccetera E avete preso Tutto sto ben di Dio E voi dici Beh ci abbiamo in mano Il destino Scusami È un semplice calcolo È un calcolo matematico È un calcolo matematico L'incontro tra Juventus e Frosinone Alle presenti di Federico Cherubini Guido Angelotti Piero Doronzo Segretario del club La Juventus All'accordo col Frosinone 7 milioni e mezzo Più bonus La stessa offerta del Torino Ma la promessa Di lasciare il difensore A Frosinone Sino al termine Della stagione Questa cosa Sta facendo La differenza Nell'operazione Proposta anche Economica Migliore Da parte di Bianconeri Rispetto al Torino Il Torino Si sentiva Già in pugno Il giocatore Che sarebbe poi stato L'erede di Bremer Che in estate Sarebbe andato via Ma a questo punto Sta prendendo la strada Di Torino Masponda Bianconera Per Gatti Pronto contratto Sino al 2026 A meno di un nuovo rilancio Del Torino Per Gatti La strada può essere Quella Bianconera In arrivo a Milano Nelle prossime ore Luca Moro Il bomber del Catania Che sta facendo benissimo Che insieme a Giuseppe Riso Domani mattina Sarà negli uffici Di Carnevali A Milano Per firmare il contratto Col Sassuolo Lui e Luca Saranno gli eredi di Scamacca Promesso sposo Forse dell'Inter Poi ne parleremo In chiave stiva Ovviamente Grazie ancora Nicolò Per quest'altro aggiornamento Insomma Vi siete accaparrati Anche Un sorriso che avanza Anche il difensore Quello che è stato definito Difensore più promettente Della Serie B Quando si dice Che si lavora in prospettiva Questa è la dimostrazione E direi che La priorità era Fare qualcosa davanti È stato fatto Era fare qualcosa Centrocampo L'altra priorità Era iniziare a pensare Alla sostituzione I Bonucci e Chiellini Manca ancora una cosina Però Sei incontentabile No Per fare un sorrisone A 360 gradi Manca ancora qualcosa Anche qualcosa Il difensore esterno Quello che gioca Quello che gioca Al posto di Alexandro Che ne ha combinato Più di Bertoldo Un peccato Che questo Federico Gatti Non arrivi alla Juve subito Perché E resta forse non Fino a fine stagione Poi verrà la prossima estate Sì Perché Si poteva inserire Nella domanda C Ah La domanda C per Iacaccia La domanda C per Iacaccia Pensa, ritiene Suppone Il tifoso di Juventino E Iacaccia E Zanfollini Eccetera Che questa squadra Rinforzata con Vlaovic E Zaccaria Eccetera Possa vincere la Champions Quest'anno Ma che domanda Ma che domanda Non sono ancora arrivati Cioè uno è ancora in aereo Questa la classifichiamo Guardiamoli un attimo Questa la classifichiamo Però nella categoria Provocazione Non è una domanda No Questa è una provocazione Io da conduttore Equidistante Devo decidere Questa è una provocazione Una domanda Quindi Sono liberi Zanfollini e Iacaccia Che non rispondere A questa domanda Mi astengo Non 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 mi astengo Le schede bianche Iaccia non so se vuoi rispondere Un insulto non è una risposta O rispondi Oppure puoi astenerti anche tu Io ti schede bianche È di moda No io volevo semplicemente rispondere a Furini No Di fare domande alla Furini Fai domande alla Furini Non fare domande così Siccome avete Però questo è un complimento indiretto Che non mi aspettavo L'è uscito da signore L'è uscito da signore Si vede che è Piemontese Si vede che è Piemontese Se vado Valtteri a Caccia Siccome Di festeggiamenti preventivi Purtroppo Me ne intendo Ma nessuno qua sta festeggiando Io ricordo Gabigol Con Dogbia I festeggiamenti preventivi Non vanno mai bene E fare i fuochi d'artificio Il giorno prima della festa Però avranno diritto Avranno diritto A essere felici Dopo una settimana come questa I fuochi d'artificio Si fanno a chiusura della festa Boom 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 Finisce la festa I ventini fanno i fuochi d'artificio Prima della festa Ma pensa ai tuoi Prima della festa Sarebbe sempre il giorno di magro Ma che magro Il giorno di Pasqua Il sabato di Pasqua Il sabato di Natale Secondo È di magro Ascolta Il magro Per poi c'è la festa Ascolta Il magro Voi avete ammazzato il maiale Il giorno prima della festa Non va bene Il magro è stato La prima parte di stagione E lì zero Ti rimporta In 95 minuti Contro il Milan Quello credo che sia stato Già un bel magro Per i tifosi della Juve Hanno fatto I fuochi d'artificio Capisco Alessandro Capisco Furini Dimmi Valti Dimmi No dico Capisco Furini E mi spiace Vederlo così Perché non ha Vedi che non ha argomenti Non ha domande serie da fare Perché nessuno si aspettava Specialmente Furini Non si aspettava Che la Juventus Con questo bilancio Che non abbiamo più soldi Tirasse fuori 90 milioni È vero 30 in tre anni Però che facesse Un atto di forza Che poi Nessuno Nessuno lo dice Ma la Juventus Ha dovuto per forza Accelerare le cose Per due motivi Perché magari a giugno Non entrava in Champions O non poteva entrare Ma soprattutto Perché si è fatto male Federico Chiesa So che Franco Che parla Con Allegri E anche Mauro Insomma Chiesa Noi ci puntavamo molto Su Federico Chiesa Un altro giocatore Però è venuto meno Quindi c'è stata Un'accelerazione Anche per quello E la Juventus Ha dimostrato Ad avere i soldi Prima cosa Prima cosa Ho sbaglio Furini Rispondi Furini Avete appena fatto Ma che te frega te Però bisogna sottolineare Un'altra cosa Tu sei sempre attento Agli aspetti finanziari E economici Stellantis Ovvero la nuova Fiat Eccetera Dopo la fusione Con i francesi Aveva preso Lo sai bene Un prestito dal governo Durante il periodo Covid Più di 6 miliardi di euro 6,3 6,3 Il prestito sarà rimborsato Con un anno d'anticipo Quindi la storia La Juve non ha soldi Alle pezze al sedere Mi pare che stiamo Da tutt'altra parte No Cioè ridai 6 miliardi di euro Con un anno d'anticipo Ma nessuno Nessuno dice Che lui non ha i soldi Quando c'è stato bisogno Ha fatto la media capitale E Exor L'ha sottoscritto Exor Exor Che è Controlla la Juventus Per il 63% E' la società Che per pagare Meno tasse Ha portato la sede In Olanda Ma tu hai una società cinese Ma di cosa parli? Vabbè Insomma Ma certo Queste sono scaramucce Che non portano niente Un conto in italiano Che va a abitare in Olanda Voglio coinvolgere invece Mimmo Su un argomento Che gli sta a cuore Già l'ha citato prima Ovvero il caso Paratici Che è scoppiato in maniera incredibile A Londra Sponda Tottenham Io l'accenneto Come sei messo Con i soldi Furini Non Senti Ma non possiamo staccare Torino Più che altro Ho cercato di disinnescare La polemica di Furini Andiamo avanti 15 secondi e 15 secondi Arrivano dove sono i tuoi debiti E tu dai a caccia Però Il ragionamento Il ragionamento di Luigi E' semplicissimo Lui ha semplicemente detto Assor C'è i soldi in Olanda Assor 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 Non so come si chiama l'associazione Non ce l'abbiamo pronta Adesso lo recuperiamo Scusami Alessandro Ma Volevo chiedere a Iacaccia Ma tu Non hai una domanda Una La domanda A, B o C Da fare a Furini Certo Una ce l'ho Aspetta Preparatela bene Preparatela bene Che adesso Guardiamo l'istituzione in Firenze Andiamo in pubblicità E poi la farai Deve venire bene Che punto è l'aereo Ah giusto l'aereo Adesso lo andiamo a recuperare Recupereremo tutto Abbiamo troppa carne al fuoco Questa sera Stiamo già però affrontando L'argomento a te Particolarmente caro Ieri è scoppiato il caos A Londra Sponda Tottenham Io l'ho accennato Io non ho amici né parenti I tifosi del Tottenham Che hanno scoperto Che Paratici Arrivato dalla Juve Portavali a Londra Kuluseschi Diciamo Semi fallimento Una pippa Di proprio una pippa Esageriamo Però L'esperienza di Juventino È stata ben diversa Da quella che si pensava E Bentancur L'eterna promessa Che da tre anni Non fa il salto di qualità Per un totale di 65 milioni Ebbene i tifosi del Tottenham Però Paratici Non è che sto ancora Lavori con Per un totale di Bisogna però dire Che dietro Paratici C'è Antonio Conte Paratici non fa niente Se Conte non gli dà l'ok E se non decide Di farlo Però Se Antonio Conte Pensasse Che dietro le mosse di Paratici Ci sia la tendenza Ad accontentare la sua ex squadra Non gliele farebbe fare La realtà è che Quando l'Inter Voleva prendere a sua volta Kulusevski C'era contrenatore dell'Inter E Bentancur Prima dell'arrivo di Allegri Era un buonissimo giocatore Della Juventus Cioè era un giocatore Con cui la Juve Vinceva anche gli scudetti Mi fermo per la pubblicità Al ritorno Faccio commentare a Mimmo Questa furia Dei tifosi inglesi Comparatici Perché è un argomento Lui caro Andiamo a vedere a Firenze Lo striscione Che Un po' Ancora più provocatoriamente Delle domande A, B, C e D Di Furini I tifosi della Juve Sono andati ad appendere Fuori dallo stadio Della Fiorentina Proprio per inserire Non solo il coltello Credo proprio La scimità Nella piaga E poi Dobbiamo anche andare a capire Guardando la classifica Se davvero I super timori Di Mimmo Pesce Di essere lui Quello che uscirà Dalle 4 Perché c'è Tra la Juve Sono confermati Con i visi Oppure magari C'è qualcun altro Che la pensa Diversamente E dobbiamo continuare Ovviamente a seguire L'aereo di Zaccaria Tra meno di 10 minuti Dovrebbe essere a Torino Per la gioia di Mimmo Pesce Quindi fermiamoci subito E torniamo Perché veramente C'è tantissimo Ancora di cui parlare E ancora Non abbiamo iniziato A parlare Di Inter e di Milan Quindi dovete Assolutamente Sapete che noi siamo In onda fino a luna Quindi di tempo Ce n'è a volontà Ma parleremo Direttamente anche qui Tra di noi di questo Arriviamo Allora Rieccoci in diretta Intanto Oltre conferme Sulla situazione In uscita Soprattutto Juve Mi scrive Monblano Kulusevski È partito per Londra Quindi ufficiale Che sta andando Bentancur Per il momento È in Sud America Guarda come molla Il giocatore Guarda come molla Kulusevski Senza ritegno No ma non lo sto mollando L'hai esibito Come un feticio Adesso lo mollando Adesso Chi mi conosce Sa la mia battaglia Andando via da Juve Ha detto Spero di ritornare Spero di ritornare Spero di ritornare È una promessa È una minaccia È afferrato Zaccaria 26 secondi fa Adesso sono direttati 30 Un applauso per Zaccaria Un applauso Un applauso È arrivato Zaccaria Profeta 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 Zaccaria Zaccaria Senti Scusa Questa domanda La vogliamo sentire o no? Ah giusto La domanda di Acaccia Furini Sì sì Domanda A Per il momento Furini è già arrivato alla cima C'è la domanda A Di Acaccia Furini La domanda A E poi B La domanda A è Ma i vostri soldi Voi con quali soldi pagate Goses? Voi dove li avete i soldi? Quando restituite tutti i vostri prestiti? In quanti anni e secoli? Quanto dobbiamo andare avanti a vedere questa cosa? Cioè siamo arrivati già alla F e alla G Altro che domandare Quando? Dove sono i tuoi soldi? Furini Se Furini risponde in 30 secondi L'Inter ha emesso un bond Da 415 milioni Che da domani mattina sarà quotato Alla borsa del Rousseburgo A un tasso del 6,75% Che scade nel dicembre del 27 Debiti su debiti 5 anni I debiti Se dorme l'Inter Perché ha 415 milioni di debiti Pensa Draghi Pensa Draghi Nel classico c'è sempre chi sta pezzi Qualcuno pagherà Ma non sono 415 Perché poi ci sono anche i 250 Sì Però un po' li hanno riborsati Insomma Comunque l'Inter è la docca In cassa 260 milioni Più i 30 milioni all'anno Che paga di interesse Sì Però è una Se poi arriva la domanda B La sentiamo congelata La facciamo più tardi Adesso che parla Amsterdam Di qua di là Ma noi quando dobbiamo rifinanziare Ecco qua 400 milioni Non andiamo in giro per il mondo Cercare E bot E CGT E BBT E BBB Ti informo che il gruppo Ti informo che anche Exorcia E meno di debiti Però bisogna smetterla di leggere Diaboliche E parlare di finanza Se no non ce la facciamo Ma no Sei pieno di debiti o no? Allora Se adesso io Deve rifinire Sì ma Guarda i debiti ce li ha tutti Non c'è società No Fammi finire Non c'è società Quattrati in borsa In Italia E nel mondo Che non abbia debiti Che non abbia Emesso dei bond Che non abbia emesso delle obbligazioni Da tanto o da poco Quindi voglio dire Per rifinanzarsi Exorcia le sue La FIA c'ha le sue Fine c'ha le sue Le generali Leni 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 Che è una delle più grandi società del mondo Ma stai sull'Inter Sto sull'Inter L'Inter ha emesso il bond Che scade nel dicembre del 27 Paga 6,75% di interesse passivo all'anno E quindi il 2027 dovrà restituire questi soldi Insomma Siamo dati già inoltre i 30 secondi Che avevo concesso per la risposta Sposta a Furini Andiamo a Firenze Doi tifosi della Juve Hanno voluto infierire ulteriormente Andando fuori Dallo stadio Franchi Ad appendere questo striscione In cui praticamente Deridono proprio la Fiorentina E i suoi tifosi E soprattutto le proteste Le proteste che ci sono state Lo vediamo proprio in foto Quando la Juve All'ultima Deve andare a Firenze All'ultima tra l'altro Hanno risposto a questo striscione Fuori dalla Fiesole Poi è stato subito rimosso Però la foto è stata postata Sui profili social ufficiali Dei Viking Di Firenze Vanto e Gloria Scrivono Ma nemmeno i vostri giocatori Ne hanno memoria La verità è che non contate niente E poi Ma niente Diciamo il solito Sfotto Poco carino Da stadio Sono andata la Digos Subito a rimuovere lo striscione Ma non essendoci Né minacce Né riferimenti razzisti Non è partita nessuna denuncia Di identificazione Alessandro Ma cosa doveva fare Scusami Alessandro Ma commisso Cosa doveva fare Cioè Uno ti paga 75 milioni Un giocatore Ti paga 55 milioni 60 milioni Chiesa Ma cosa deve fare Un presidente Lasciare poi libero Il giocatore Dopo un anno Ma guarda Se la domanda è rivolta a me Io ti posso dire Che commisso Ha fatto benissimo Probabilmente i tifosi La Fiorentina Contestano Quello che ha detto Le due o tre settimane Precedenti Poi al vendere Vlaovic Alla Juventus Tra l'altro Pare diviso In tre rate Neanche in un'unica soluzione Cosa che invece Sembrava non essere Quindi i tifosi La Fiorentina Immagino che protestino Oltre che per la cessione In sé di Vlaovic Per il modo In cui è arrivata Questa cessione Quello che fa arrabbiare I tifosi La Fiorentina È Secondo me Il fatto che sono diventati Le tre tranche No Che sono diventati Sono diventati I fornitori ufficiali Della Juve Gli attaccanti Juve Sì soprattutto Sì ma glieli paghiamo Franco però Ma nessuno dice Nessuno dice Che non li pagano Ma delle tre rate Una è subito Eh certo Perché questa è la notizia Ah dici Quindi è già Un'anomalia In quel senso lì Certo Mimo Lo spazio La tua indignazione Voglio lasciarla Nei confronti di Peretici Ti ringrazio Però Il problema Devo dire la verità È anche questo Che intanto È arrivato Zaccheria E qui non se ne è dato Non si è fatto parola Nel fatto che è arrivato Zaccheria Cioè che è atterrato Che mi aspetto Una grande festa Per l'arrivo Di zeccherie Mi raccomendo No poi L'indignazione Sta nel fatto Sta nel fatto Che è vero In qualche maniera Mi ha già risposto Volevo fare una domanda Ma non la faccio Perché ha già Il Mauro Suma Che per quanto Mi stia Antipatico No mi sta proprio Però non è questo Più o meno Di Zanforlini No no In un'altra categoria Zanforlini è fuori Il passione di Zanforlini Resta ineguagliabile Però il concetto è Ci sono due aspetti L'aspetto Ma scusa Scusami Ma non ho capito Per quanto Mario Suma Lui non si chiama Mario No lui ha detto Mauro Ho detto Mauro Ascolta Ciccio Ascolta Ciccio Perché non apprende bene Hai voglia di litigare Mario non apprende bene Hai voglia di litigare Ho detto Mauro Mario si chiama mia sorella Come ti è venuta in mente Eh ma perché Non chiamo Mauro E lui ha detto bene Non deve andare a pizzicare Ho detto Mauro Ho detto Mauro Se no allora verrà me Facciamo il rotolino Allora Allora è stato Iagaccio Qualcuno ha detto Mario Ma è Iagace Ah ecco A te piace Quando ti chiamano Ciccio Non mi importa Ti piace Ti chiamo un francuzzo Non mi importa Cerchiamo di andare avanti C'è l'aspetto peretici E devo dire che Mauro Ha già risposto Peretici E Mauro Ha risposto La U l'ho sentita E poi E poi c'è il discorso Che un po' Mi fa ridere Però l'avete toccato adesso Comisso In effetti Io Chiaro che vanno È chiaro Vanno comunque Denunciate Tutte le esagerazioni Anche dei tifosi Ci mancherebbe Al netto di questo Sul quale siamo ovviamente Tutti d'accordo Però Comisso Hai fatto una figura ragazzi Comisso What's America now Veramente hai fatto una figura Paesale Cioè tu li giustifichi I tifosi da Fiorentini No no Non li giustifichi Perché a me Anche se era tanto L'altro ieri Hanno fatto un comunicato Però un po' Ti dà fastidio Da Fiorentino La cura Fiesola Ieri ha fatto un comunicato In cui va un po' In contracomisso Dicendo abbiamo bisogno Rocco di un grande presidente No ma è indubbio che lo sia Se la prende più con Gio Barone Che ha in Ma è indubbio Ma è indubbio Poi non dimentichiamoci Che Rocco Comisso Che tanto Tanto viene sbeffeggiato Ha un patrimonio 8 miliardi di dollari Quanto? 8 miliardi di dollari 8 miliardi di dollari Tanto per Quindi lui gli affari Li sa fare Tu che squadra compreresti Con 8 miliardi di dollari No ma al di là di questo Io voglio dire un'altra cosa Alessandro Ma anche perché Ragazzi Qua corre il tempo Poi finisce e non riesco a Ormai l'aereo è arrivato Quindi No ma lui vuole Tra l'altro bravo Ma l'aereo è arrivato Ma possiamo andare a casa Ma vuoi parlare di Milan Dall'inizio della trasmissione Te ne vai quando si Mi piacerebbe tanto Non puoi andare via Senti Dimmi un'altra cosa però Tornando alla classifica Tu hai iniziato la trasmissione Con una faccia funerea Hai ancora il lutto Al tuo braccio destro Proprio per tutti questi Arrivi in casa Juve In casa Inter Ovviamente L'obiettivo della Juve Non può che essere Arrivare tra le prime 4 Abbiamo detto Senza mezzi termini Che se ciò non avvenisse Sarebbe un fallimento Dopo questo mercato invernale Tu hai il timore Che tra queste 4 Sarai tu a uscire E non per esempio Non so Magari l'Atalanta Che è la squadra più vicina E più prossima Alla Juve Perché sei così poco fiducioso Io credo che In Napoli L'abbiamo visto È bastato È bastato veramente poco Per andare in difficoltà Devo ricordare Le sconfitte Anche se vuoi Subite nell'ultimo periodo Poco vuol dire anche 10 defezioni Alla volta Non è proprio pochissimo Infatti Devo dire Napoli Oltre che andare in difficoltà Con poco Sì In più ci metti pure Il concetto Che il Napoli È particolarmente sfortunato Tra Covid Infortuni E quant'altro E quant'altro Non ha una panchina Degna di nome Perché non ce l'ha E quindi io la vedo in difficoltà La vedo in difficoltà E questo non vuol dire Che poi non si qualificherebbe Però La vedo in difficoltà Certo Una Juve di questa portata Ma non è solo il Napoli Che si deve preoccupare E il Mila Secondo me stasera Se la sta facendo sotto Il Napoli Se la sta facendo sotto L'Ettelente Se la sta facendo sotto Qua c'è gente che non dorme Ragazzi Dici qua è fette Tengo lì due Juventini Per ultimi Voglio sentire invece Insomma Furini Suma Ordine No io vedo Scusami Sono collegato con la borsa Sì Allora c'è Stellantis Che ha un buon discredente Da 100 milioni Che ha scredente Da 7,7,28 Sì Quindi un anno dopo Poi c'è la FCA Che ha 3,5 miliardi di bond Le scadenze Il 7 luglio 23 Il 6 gennaio 26 E il 7 luglio 28 Questo per dire Che tutti hanno debiti Tutti hanno debiti Allora 3,5 miliardi di euro No Ma mica c'è la giusta Se parliamo di Diabolic Allora Diabolic C'è i vacanti E Gigo che gli dà la caccia È una roba Se parliamo dei bond Qua ci sono le robe della borsa Tutti hanno i bond Sì Ma che c'entra C'entra Hai detto Chi paga i debiti dell'Inter Sì ma non è che puoi andare avanti una vita con i bond Con i bond del calcio Ma con la c'entra la Stellantis Che c'entra Allora I bond del calcio Tu leggi braccio di ferro I sottoscrittori dei bond Quando il bond arriva a scadenza Vanno in banca E la banca glielo rimborsa L'emittente glielo rimborsa Tu dici Perché quando la Fiat La Juve fa la un'altra di capitale Chi le sottoscrive? Maria Gesù Bambino O la famiglia Agnelli Perché se no di cosa parliamo Ma non abbiamo chiamato dei bond Per pagare dei debiti del calcio Chi sottoscrive La un'altra di capitale Della Juve La Fiat E la Fiat ha emesso i bond A 3,5 miliardi Basta Ciao Sei indignato Ci ha arrabbiato Furini E sei andato Ma no Comunque Allora 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 Sì Devo fermarmi proprio Allora Eva Cante è l'amante di Diabolic E Gico è quello che va a cercare Diabolic Ed è Diabolic Paperino Topolino Altro Queste saranno un po' più serie O ci capiamo O se no Dove dovete stabilire Se parliamo di Diabolic Cos'è parliamo di Di Ma io sinceramente di bond Eviterei di parlare Stavo cercando di farti una domanda Sulla classifica I debiti dell'elite Sono come i debiti di tutti gli altri Allora Ma perché Se ti placi un attimo 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 Di Diabolic Diabolic Ma scusa Ma perché Eva Cante sta con Diabolic Io non lo sapevo neanche Allora Andiamo una minuta in pubblicità Poi se Furini si placca E torna qui Riesco anche a fare la domanda Di calcio giocato Che da casa interessa un pochettino Più dei bond E dobbiamo poi anche Cercare di capire Da oggi in avanti Così concludiamo anche il tema Juve Il futuro di Di Bala Quale sarà Che cosa fare Che cosa conviene fare Che cosa inventa la società Un minuto e arriviamo Come ospite in trasmissione Giacaccia o ciocca Cosa ti piace di più dei due Rieccoci qui Rieccoci in diretta Allora Dobbiamo ripartire Da alcuni messaggi E poi Con Furini Volevo commentare Appunto La corsa al quarto posto E soprattutto Il rischio di chi Rimarrà fuori Dalla corsa al quarto posto Ah proprio senza dubbi Da casa c'è Fabio Che ci scrive Dice Mi ricordo la felicità Degli Juventini Quando arrivarono Rabio e Rams E tutti i gasati E fa riferimento A questi nuovi arrivi Magari poi Non saranno felici Come sono stati In questi giorni Ancora Questo telespettatore Dice La Fiorentina Campa con i soldi Della Juventus Quindi non sputassero Nel piatto Dove mangia commisso Dove mangia commisso Tra l'altro Allora Tornando alla questione Relativo alla lotta Per il quarto posto Di quelle squadre Quattro andranno in Champions Una rimarrà fuori Da questo momento Vieto di parlare Di bond Debiti Sono parole bandite Da qui in avanti Per il bene Del proseguo Della trasmissione Ma voglio capire Da Furini Nel dettaglio Se condividi Il ragionamento Di Mimmo Che dice Siamo noi Quelli che più rischiamo Al di là Della scaramanzia Al di là Insomma Degli scherzi Più di tutti Di rimanere fuori Non per la nostra forza Ma perché il Napoli Lo vede molto In discesa E molto in perdita Di prestazione Oppure per esempio L'Atalanta che le vicina O il Milan E rischiano a tuo giudizio Di più Io direi che l'Inter È l'unica Che possiamo tenere fuori Io penso che l'Inter Seriamente L'Inter Siccome Inzaghi Anche in passato È dimostrato Nel giornale di ritorno A volte le sue squadre Hanno un vero e proprio Crollo In più abbiamo I sudamericani Che torneranno Dal giorno prima Del derby Quindi il derby Lo vedo molto a rischio Poi abbiamo La trasferta A Torino Contro la Juventus E dopo il derby La trasferta A Napoli Con Napoli E poi gli sconti diretti Sono finiti Però Napoli L'UV Luigi L'avete fatto tutto Poi fino a maggio Non ne avete più Gigi scusa Però una cosa Adesso seriamente Però Tu guarda Facciamo vedere L'excel della classifica Facciamo vedere L'excel della classifica Cioè A te manca una partita Cioè Tu sei a 56 Cioè 56 Arrivare a 42 Siccome ieri Sono 15 punti Comunque Ti devono recuperare 15 punti Sei d'accordo con quello Che dice Mim Ragazzi Sono 14 56 Meno 42 Fa 15 Fa 14 56 Meno 42 Fa 14 Sì Sì Fino a prova contraria Sì Siamo sicuri No Sì No 15 56 Meno 42 Fa 15 Ragazzi Fa 15 Fa 15 No Quindi hai Questo per dire Adesso Diabolico Trattato scientifico Rispetto Hai Hai Un margine Hai un margine Sinceramente Hai Un margine Un margine Che ti permette Se parliamo seriamente Seriamente Ditemi Quando è ora di parlare Io la domanda l'ho fatta 4 minuti fa Se arriva una risposta Bene Se no passiamo agli altri Chi è che rischia di più Delle prime 4 attuali Vediamo se riesci a rispondermi Atalanta Se no alzo Io me ne vado Io per protesta Adesso a questo punto Atalanta Atalanta Per una posizione solo di classifica Di vicinanza È tutto Per una serie No 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 Perché adesso Onestamente Juventus-Atalanta È un punto Il punto Sappiamo che E anche Fa vedere Il Milan 49 Il Napoli 49 Un po' più lontani Dalla Juve Il Milan Come tu dici Atalanta Dovessi giocarti una fish Sì perché Io ho visto giocare Cioè le predile Le vediamo tutti Il Napoli secondo me Adesso ha recuperato Osimè Che è un grandissimo giocatore Che è rimasto fuori Dopo l'Inter-Napoli Coulibaly Coulibaly Secondo me Il Napoli Ricomincia a marciare Il Milan Io non lo vedo così male Cioè il Milan Qualche deficienza ce l'ha Perché è inutile Che lo neghiamo Però Nel suo complesso Insomma dai Va là Ha avuto tanti infortuni Anche il Milan Da domani A maggio C'ha 10 infortunati La domenica Sicuro Che va via Comunque di questo gruppo Insomma tu l'Atalanta L'Atalanta L'ho vista Faraginosa Non è più Anche se ci ha abituato Storicamente A grandi gironi di ritorno Vedremo se confermiamo Tu dici Atalanta Suma ordine Suma scaramanzia bandita Fammi un ragionamento Proprio calcistico No 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 io penso che Tutte e tre Debbano tenere la guardia Molto alta Tutte e tre Indistintamente Perché poi Diciamo ai primi di febbraio Stare a guardare i punti Di adesso è uzioso Cioè lascia il tempo Che trova Secondo me Tutte e tre Devono Devono tenere la guardia alta È chiaro che La Juventus Torna in gioco La Juventus Torna in gioco Però la Juventus La prima cosa Che deve pensare La Juventus Non è chi mi fa posto Ma rientrare Cosa che ho anche Abbastanza Appena verificato Se proprio Se proprio Ve lo devo Raccontare Quindi È chiaro che Con la Juventus Non si scherza Io ho sempre guardato I punti di vantaggio Sulla Juventus Non li guardo solo adesso Li guardo da Da mo' che li guardo Quindi Per me non cambia nulla Io dico Per quanto riguarda Il Milan Che è la squadra Che conosco di più Delle altre Che se il Milan Il tema del Milan È il recupero Dei suoi giocatori Se il Milan Recupera Io con la squadra Diciamo Vabbè Chier per quest'anno Non lo recuperiamo Ma il ragazzo Il ragazzo Se è dosato E centellinato Calulu Il suo lo può fare Io dico Che se il Milan Recupera I suoi giocatori E ha Una quota Fisiologica Di infortuni E non drammatica Come quella Che abbiamo avuto Fino ad oggi Il Milan Se la gioca con tutti Voglio sentire ordine Poi Zanforlina E Iacaccia Su questo tema Sì Allora Io faccio Tre valutazioni La prima Dal punto di vista numerico È evidente Che l'Atalanta È quella Che è più vicina A un punto E quindi È quella Che diciamo Tra virgolette Oggi Guardando la classifica 30 gennaio Si può dire Che è quella Che rischia di più Seconda valutazione Con chi Ha già esaurito Gli scontri diretti La Juventus È vero Ricorda giustamente Federica Che l'Atalanta Ha una partita in meno Quindi potenzialmente A 46 Atalanta Torino È la partita Ma Torino È sto periodo La seconda valutazione È gli scontri diretti Con il Milan Le ha fatti già Tutte e due Deve fare ancora Atalanta Inter E Inter E questa è la seconda considerazione La terza considerazione È questa Il Napoli Se Recupera tutti I suoi Che sono andati via In Coppa d'Africa Secondo me Ha un gioco brillante Facilità di fare gol Una serie di Sostituti Di ricambi All'altezza della situazione Quindi secondo me È quello che considero Meno Diciamo Anche se deve fare però Un confronto diretto Con Con la Juventus Con lo meno a rischio Esattamente Invece sul Milan Io sottoscrivo Quello che dice Suma Il Napoli ha finito I scontri diretti con la Juve Con la Juve Le ha finiti C'ha l'Inter Il Napoli è in vantaggio In questo momento Chi ha fatto i scontri diretti Con la Juve Sono Napoli e Milan Il Napoli è in vantaggio Chiuso Il Milan È in vantaggio Perché ha più nove Di differenza reti Sì Mentre invece Per quel che riguarda il Milan È evidente che Se il Milan Ha lo stesso rendimento Che ha avuto finora Rendimento Nonostante quella Trage di infortuni Di assenza E' evidente che Secondo me Può rimanere lì Può rimanere lì Zanfollino e Jacaccio Vi chiedo 30 secondi a testa Anche perché voi Siete quelli che inseguite Quindi non è che potete Potete più magari Guffare altri Piuttosto di fare Io parto dal presupposto Che intanto la Juventus Deve fare il suo Deve fare meglio Di quello che ha fatto Fino adesso Guarda che c'è la banana Banale qui dietro Pronta E quindi Con l'arrivo di Blauvic E Zaccaria Penso che possa Indubbiamente fare meglio Questo per dirti che La prendo Mimmo Il destino Mimmo la prendo Il destino della Juventus Non dipende solo Dalle proprie Dalle proprie prestazioni Poi Secondo me La squadra che rischia È un po' che non la tiravamo fuori Falla ben vedere L'hai vita No ma lasciala lì sempre Ah proprio fissa Lasciala lì fissa Poi Ne sta dicendo Una dietro l'altra La squadra che rischia Che rischia di più È l'Atalanta Ma non dico semplicemente Perché C'è lo scontro diretto Secondo me Lo scontro diretto È fondamentale Può diventare decisivo Decide Poi certo che Il Milan Voi mi direte Sono d'accordo Con la vostra analisi Però secondo me Il derby potrebbe essere Un crocevia Non dico importante Però delicato Perché se lo perdi Poi bisogna vedere Come ne esci Dal derby E il Napoli Che ha lo scontro diretto Con l'Inter E anche lì Secondo me Sono due gare Invece tu a Bergamo Con l'Atalanta Fai la passeggiata No Non ho detto questo È chiaro che L'hai detto L'hai lasciato intendere Mi sono conquistato La banana banale È chiaro che L'Avimento deve fare il suo Deve andare a vincere A Bergamo È scontato Però ho dovuto sottolinearlo Perché altrimenti In carrozza Andate voi E dobbiamo vincere Andate voi Perché all'andata I persi Valteria caccia Su chi punti Su chi fai la corsa Per entrare nelle quattro Chi è più vicina Quindi l'Atalanta Se vuoi mandarmi In che me la banana La prendo No 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 Tu hai detto La prendiamo volentieri È già più motivata La tua risposta Sei stato più netto Di certo Di certo Però fammi dire una cosa Con un mercato così Come ha fatto la Juventus Nelle ultime ore Non dobbiamo più nasconderci Perché Veramente se la Juventus Non dovesse riuscire A entrare in Champions Insomma Sono soldi Buttati proprio al vento Perché Spendere tutti quei soldi Per due giocatori Uno è vero Parametro zero Ma soprattutto Vlauic Li avresti spesi a giugno Valter Valter Li avresti spesi a giugno A giugno Li hai solo anticipato i tempi E intelligentemente Vista la situazione No Appunto per quello però Ti sto dicendo Che secondo me No Se la Juve Poi a fine maggio Non entra in Champions Insomma Guarda che a giugno Magari potevano fare Altre valutazioni Perché credimi Che arrivando Arriva bene Qualcosa è cambiato Di certo Una cosa è cambiata No Che c'è un uomo Che decide Dopo Agnelli C'è lui che decide Sui soldi E tante altre cose Per cui Secondo me Se hanno accelerato È per entrare in Champions Soprattutto E se non dovessero entrare Scusami tanto Quando investi così tanto Devi farti delle domande Arriba bene Arriba bene Però c'è da dire Che subito Prima sessione O meglio Seconda sessione Di mercato Questa qui invernale Ci ha insegnato A non fidarci Di quello che dice Perché aveva promesso Che non si sarebbe fatto niente In realtà la Juve Ha fatto i fuochi d'artificio Però Alessandro Lui ha detto quelle cose Prima dell'infortunio di Chiesa Comunque Beh però Alla fine ha fatto due Quasi tre supercolpi Ma per voi l'infortunio di Chiesa Non è importante? Non ho capito Secondo voi Non vuol dire nulla L'infortunio di Chiesa? Non ha dato un'accelerata? Certo Certo che sì Questo sicuramente Ha influito Al pari probabilmente Di altre valutazioni Che sono state fatte Chi lo sa Se anche la Juve Può aver portato Un'accelerazione Senti Rimango da te Per capire invece A giugno Che cosa farà la Juve Che cosa secondo te Dovrebbe fare con Di Bala Cioè a questo punto Cerchi di vendere Per monetizzare Ti aspetti una mossa Da parte sua in primavera Arriva bene Ha detto che se ne parlerà Da metà febbraio in avanti Dei rinnovi Cioè ti aspetti Che davvero Nelle prossime settimane Barra mesi Ci sia un gesto Da parte del giocatore O se non succederà niente La Juve Junior Insomma cercherà Di venderlo Al miglior offerente Ma guarda Per quanto riguarda Di Bala A dicembre del 2020 Andrea Agnelli Disse a tutti Che era stata fatta Un'offerta a Di Bala No? Era quasi Era nei top 20 giocatori Più pagati Non ha mai dato Una risposta Naturalmente Continuerò a dirlo Con l'arrivo Di arriva bene Sono cambiate le condizioni Ed è cambiata Anche la condizione economica Verso Di Bala Verso l'entourage Di Di Bala Poi se Di Bala Troverà una società Che gli darà Gli 8 2022 Non è il 2022 Non è il 2022 Non è il 2022 Ma hai ragione Lo vende e va a zero Ho fatto un errore io Se sei ragione Può già firmare Per un'altra società E domani È l'ultimo gioco Di mercato Quindi la Juve O lo vende domani O se no Luigi scusami Ma chi prende Di Bala adesso Che se lo può prendere A giugno gratis Nessuno Ah No Io L'ho detto prima È una cosa Che non vorrei vedere Scusa Che non vorrei vedere Ma mi sa che la vedrò Che Di Bala Lo prende in l'inster Di Bala nero azzurro Sì Perché non lo vorresti vedere No Io non voglio vedere I giocatori della Juventus Questi roma Cioè non è Di Bala in sé Sì 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 Io quando vado allo stadio Che vuol dire Tutte le domeniche E quando Lo speaker Dà la formazione No Io sono All'antica Io non voglio vedere Spero che Mauro Sottoscriva le mie parole Ma anche gli altri Cioè Io non dico Baresi Franco Ma ha giocato il Milan Una vita Adesso C'è per dire uno Ma c'è di quelli di Milan E non quelli della Juve Com'è sta storia Accetti quelli che vengono dal Milan E non quelli della Juve Io dico che le bandiere Devono stare là dove sono Le bandiere sono fatte apposta Per stare là dove sono Quando c'è la guerra Il portabandiera È esentato Da portare l'arma Però Per tra inizio Ma non è la bandiera di Bala Perché è la bandiera È più importante del cannone Tiene sul Ma non è una bandiera di Bala Luigi Non è una bandiera di Bala Ma lo avete capito Voglio dire Quando si è davanti al decimo gol fatto Se cambia un po' La valutazione No ma poi lui No ma Come si prende solo i dei raggi Ibrahimo Che non si prende Io volevo fare un esempio storico Storico Allora Io Allora io Gianni Parliamo di giocatori Che non giocano più C'è la radio Gianni Rivera Scusami Luigi Però al di là di questa discussione Su bandiera o non bandiera Allora Dando per buona La tua previsione E cioè di Bala all'Inter Sì Più Sento qua Che è già Scamacca Scamacca e frattesi Allora Mi chiedo Ma Secondo te Chi lascia Cioè Chi esce dall'Inter attuale Lautaro Uno solo contro tre No Intanto Lautaro secondo me è lì L'Inter lo fa per fare cassa L'anno scorso L'anno scorso L'anno scorso ha fatto le stesse operazioni Ha preso Geko quasi a zero E ha venduto Lukaku Sì Perché l'Inter Non ha soldi Ha debiti Dopo non parliamo più di soldi Se no poi Diventiamo nervosi L'Inter Non ha un finanziatore Non è in grado Oggi di Lanciare un momento di capitale Si deve autofinanziare L'anno scorso l'ha fatto Fene ora è andata bene Vendendo a Kimi Lukaku E prendendo Dunfrist E Geko Quest'anno secondo me Farà la stessa cosa Prende un giocatore a zero E vende E vende un giocatore a 60 Quindi non prende Scamacche Secondo me Prende Dipende Secondo me vende Lautaro Poi Adesso l'Inter Ha in cassa 200 in passa Milioni Adesso ne parliamo di Inter Del debito Che ha emesso E quindi Secondo me L'Inter Prende Di Bala a zero E vende Lautaro Di Bala all'Inter Darrebbe fastidio anche a me Comunque Vedere Di Bala all'Inter Mi darebbe molto fastidio Io quando vado allo stadio E dicono Come si chiama Di Bala di nome? Paolo Paolo Con la U Paolo Allora sai che i tifosi dicono sempre Il cognome E lo speaker dice il nome Io vado là Con la mia bandiera nera azzurra La sciarpa Il cappotto Perché fa freddo E lì faresti scena muta Paolo Dice lo speaker E tu? Io Dovrei dire Con la sciarpa in mano Di Bala Io no Io no Io no Poi scegliati 60.000 70.000 Lo vogliono fare Lo facciano Io no Mimo è arrivato l'aereo di Zaccaria Abbiamo le immagini Postate su Twitter Da Romeo Agresti Confermate domani mattina Le visite mediche Ecco qui L'arrivo Fai Una bella fusoliera Una bella fusoliera Prima che scendesse Vorrei che Zafforini Me lo descrivesse Fisicamente Visto che lo conosce Lo conosco Abbastanza bene Adesso lo conoscerò Adesso lo conoscerò meglio E' alto Ma soprattutto Lo conoscerà meglio L'avversario di Turme Descrive E' un centrocampista Di un metro ai 94 Eccolo qua E pesa 84 chili Circa Etto più etto meno Dipende cosa ha mangiato C'ha la barba Dipende cosa ha mangiato Non ha la barba E' un bel ragazzo Un bel ragazzo Unito Ordinato Calcia bene di destro Anche di sinistro Fa qualche gol di testa E tu vuoi sapere Tu volevi conoscere Questa giocattura Cosa vuoi sapere Cosa ti manca Cosa ti manca Cosa ti manca Di sapere Nel suo curriculum No no Per dire Mimmo c'è da dire La sorte ti sorride Perché Juve Napoli C'è già stato Sia all'andata Che al ritorno Quest'anno Perché rischiavi No Eh Rischiavi Gli è andata bene Ma non è l'unico Non è in solo Gli è andata bene E' sempre ad alto rischio Magari si trovano in Coppa Italia No Scusa No 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 Coppa Italia Volutamente Volutamente Con tanto di valigia Mamma mia Come ti ringrazio Di essere uscito Dalla Coppa Italia Stai coppetta da quattro soldi Chiudiamo qui la maxipagina Dedicata al mercato Juve Che questa sera Insomma ci ha tenuto Particolarmente Attivi Operativi Ringrazio e saluto Valteria Caccia A meno che voglia rimanere qui Ancora con noi A parlare un po' di Inter Di Milan Ma ti avevo detto Solo fino alle 22 Quindi rispetto la promessa E non ci parla un po' di Assorno No Di Assorno Non si parla più Grazie Valter Ti aspettiamo presto qui Un saluto Ciao a tutti Buona serata Ciao Ciao Valter Tornevo tra poco Per parlare di Inter Con due colpi già Della giovane Italia Pronti per il mese di giugno Ma dobbiamo anche raccontarvi Di una vicenda clamorosa Che arriva dalla Premier Dove non si è parlato D'altro in tutta la giornata Un giocatore del Manchester United Che oggi è stato arrestato Per violenza Nei confronti della fidanzata Un caso che è davvero sconvolto Non solo Manchester Ma tutta l'Inghilterra Il Manchester United Ha già messo questo giocatore Per il momento In sospensione Un minuto E arriviamo Ancora in diretta Allora Andiamo subito a vedere Cos'è successo oggi In Inghilterra Con una notizia shock Che ha rigolato Il Manchester United Ma tutta la Premier Possiamo dire Tutto il mondo del calcio Federica Sì perché tutto è partito Da dei video postati Dall'ex fidanzata Di Greenwood Video con tanto di audio Postati sui social Su Instagram In cui lei diceva Di essere stata Molestata Sessualmente Aggredita Da Greenwood I video sono stati Poi subito cancellati Però ovviamente Tutto si vedono Anche i segni Dell'aggressione Nella foto Si intravedono Lei ha tolto Subito tutto dai social Però comunque I video sono arrivati Al Manchester United Che hanno subito Sospeso il giocatore Dichiarandosi Estranei E distanti da qualsiasi Forma di violenza Nel tardo pomeriggio Poi abbiamo letto La notizia Di un uomo Sulla ventina Arrestato Proprio per O meglio Tenuto in custodia Proprio perché C'erano questi video Che parlavano Di violenza sessuale Non solo Ai danni di una donna E ovviamente Associando tutto E anche la decisione Presa dal Manchester United Si può dire Che il giocatore Si è stato arrestato Cioè la polizia non ha detto Ufficialmente Greenwood è stato arrestato Ma ha detto un giocatore Sulla ventina Quindi il profilo era quello Sì 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 Spiegando poi ricostruendo L'inglese comunque ha pochi dubbi Che sia Esatto È un giocatore molto importante lui Cioè non è uno Un giocatore tanto giovane Di prospettiva E anche un grande valore Come asset Per il Manchester United Quindi al di là della storia Insomma che riguarda La cronica Che riguarderà sicuramente Poi la parte penale Noi ci limitiamo a commentare Come dal punto di vista calcistico Diceva giustamente Suma E insomma La notizia che riguarda Un danno non da poco Per il Manchester United Ma soprattutto un grande shock Per tutto il mondo del calcio Non so se qualcuno Vuole aggiungere qualcosa Ma come dire Va ben oltre L'aspetto calcistico Quindi seguiremo Una vicenda che ha riguardato Nei mesi scorsi Anche Nandez In Uruguay Con la moglie di Nandez Anche se lì Non è così immediata Perché Nandez Sostiene di aver chiarito tutto Sì Nandez poi ha anche smentito Di Come dire Che nel caso in cui torni in Uruguay Sarebbe arrestato all'istante Questo lui l'ha voluto smentire Lui diceva che è una cosa Che si trascina da tempo Non è così vicina nel tempo Hai ulteriori dettagli? Sì, questo è quello che scrive La Gazzetta dello Sport Che le forze dell'ordine Hanno reso ufficiale l'arresto Pur non rivelando direttamente Il nome del ventenne C'è stato un interrogatorio Anche il Manchester United Poi ha confermato Che fino a nuove indicazioni Il giocatore non tornerà Ad allenarsi Ribadendo quanto vi ho detto prima Che la società non perdona La violenza di nessun tipo La cosa che accomuna È che anche Durante le feste natalizie La moglie di Nandez Ha messo online delle foto Proprio perché Durante le feste natalizie Era tornato in Sud America Nandez E il Manchester United Dice La società non perdona La violenza di nessun tipo Vediamo In caso di condanna E nel caso in cui Appunto queste accuse Nei confronti Greenwood Saranno confermate Se il Manchester United dirà Noi piuttosto rinunciamo Al valore di questo giocatore Che adesso io non so Esattamente Quanto è ma sarà parecchio Per comunque Tenere la testa alta E non perdonare Da nessun punto di vista Questo Cioè sarebbe Io vado Cerco di stare basso Ma credo che Greenwood Almeno un 50 milioni di euro Se non di più Sul mercato Li possa valere No Manchester United Magari si dirà pronto Anche a rescindere E perdere completamente Questo valore Proprio per tutelare Se stesse Per dare un messaggio In questo senso Parliamo di Inter Cari Furini Perché insomma Quello che dovete fare a gennaio L'avete fatto Con Gosens e Caicedo Ufficiale da ieri Tra l'altro Caicedo Ti ha convinto Come operazione Va bene nel mare magnum Insomma di questa Inter Che va bene Prima in classifica O non Non ti ha particolarmente Ma è un pupillo di Inzaghi L'ha voluto Lui ce l'aveva la Lazio Benvenga Se l'allenatore è contento Se lui è contento Inzaghi Poi c'è chi dice Che l'Inter Per prendere la quinta punta No Sarà bene Poteva anche pescare Dalla primavera Perché Teoricamente La quinta punta Soprattutto per Sanchez Perché Tutte le volte Che torno dalla Cile Torno con un guaio Muscolare Tutte le volte Che è andato in Cile Con la Nazionale Tornato con un guaio E abbiamo Dalla settimana prossima Ogni tre giorni Milan Roma in Coppa Italia Napoli in trasferta Liverpool In Champions Quindi Quanto per dite Importanti Perché sono anche Versari di livello C'erano anche i giochi Con l'ultima in classifica Con questi due Che arrivano Dalla Sud America Pausa Ricordiamolo E fa giocare solo I giocatori del Sud America Quindi questa volta E siete voi I più penalizzati Sì A livello totale Di numero di giocatori Esatto L'internet E devo dire Fa virgolette Sto scherzando Che Vidal Non va in Cile Perché ha preso Tre giornate di squalifica Ha messo Un piede in faccia Un avversario Al turno precedente Ha preso tre giornate di squalifica Benvenga quindi No Benvenga no Perché io non sono Di quelli che Piedi in faccia L'avversario Non si deve mettere mai Però ha preso tre giornate E Vidal Quindi E non è partito Correa Perché è infortunato Però domenica Sabato col derby Correa è infortunato Ma quanti sono I sudamericani Perché si dice Correa Vidal Sanchez E Lautaro Quattro Quattro Correa è infortunato E Vidal è squalificato Vessino c'è anche E Vessino Scusate Quindi Stiamo parlando di Vessino Di Sanchez E di Lautaro Vessino ve lo dico io Ve lo dico io È inutile che fai L'inzighino Vessino è già tornato Quindi sta Ah è già tornato È tornato Perché è loro No Volevo dire Quanti sono I sudamericani Parla Parla L'infinito I sudamericani Ma quanti sono Poi io ricordavo Mi era sfuggito Vessino A me il derby Interessa particolarmente Sono interessato Dobbiamo parlare Di mercato inter Delle novità di giornata Non ho capito Per chi tifa E non provocare E non provocare Tifa per te Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Vi devo fermare Per un minuto Il triangolo E mezzo giumentino Ma tifa per te Ma tifa per te Perché lui vuole Questa è grande Allora Mauro Mauro Tifa Fammi finire Tifa per me Se pensa Di accontentarsi Non hai sentito Cosa ha detto prima E ma il Milan Che il derby Sentito Dobbiamo raccontare Delle novità di giornata Che riguarda l'Inter Sono molto in ritardo Con la pubblicità Tifa per me Tifa per te Se pensa Tifa per te Punto Sì fammi finire Il ragionamento Tifa per te Punto Se pensi di arrivare In Champions Ma se pensa Non pensa Di arrivare In cima Ok ok Mi fermo per un minuto Linea Pia Con le imperdibili offerte Coppe Poi torniamo Per le novità Di giornata Che riguardano Proprio l'Inter Arriviamo Rieccoci in diretta Messaggi da casa Da casa c'è Simone Tifoso interista Che ci dice Secondo me L'attacco dell'Inter Della prossima stagione Sarà così formato Scamacca Smetterà O comunque Andrà verso Però sono Sono Come caratteristiche Sono identici Sì ho detto Che giocherà Uno o l'altro Perché Avendo tante partite Speriamo Coronella Champions Eccetera eccetera Uno o l'altro E perché Dzeko andrà A compiere L'anno prossimo I 37 Ci vuole Un altro Scamacca Un altro Oltre a Di Bala Perché non è che puoi fare Con tre Ebbè C'è un corrente Ai Sanchez Appunto Io credo Che Sanchez Lo vogliono tagliare Perché ha un ingaggio Molto molto alto Eh sì Con i sette e mezzo Che prende Senti Le novità principali Di giornata di Inter Riguardano due fronti Uno che è quello Già Dele guardare a giugno L'altro che è quello Dei rinnovi Partiamo dal giugno Perché soprattutto La gazzetta dello sport Oggi sosteneva In maniera molto decisa Che non solo Scamacca Ma anche Frattesi Sarebbe un obiettivo Già ben avviato E già ben delineato Quindi non solo Il centravanti Ma anche un giocatore Da mettere in mezzo Al campo E da affiancare Probabilmente a Barella E di conseguenza Questi due colpi Sull'asse Sassuolo-Inter Quindi sull'asse Carnevale-Marotta Dovrebbero essere Cosa fatta per giugno Una bella rivoluzione verde Giovane Caro Furini Italiani Ma a centro campo Non dovete più dipendere Magari O dipenderete di meno Dal Sud America Quindi togliendovi Anche questa minata Purtroppo Vessino va in scadenza Quindi Molto probabile Che vada Via Anche se un po' mi dispiace Perché Vessino Io metterei Se fossi un dirigente Della Federcalcio No Mi piacciono Assolutamente Gli uruguagi O uruguayani Che metterei Obbligo Per ogni squadra Di avere nemmeno uno Perché mi piacciono Perché sono fatto così Poi sono matto Per carità Non è che c'è Però mi piacciono troppo Cioè Recoba Beh Che cosa ti piace di loro Il carattere Il carattere Gente che Mai 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 Vinti Capati Luigi due giorni fa Si è giocata Paraguay Uruguay Fessino Ha giocato per 90 minuti Ed è stato anche uno Dei migliori in campo Sì sì ma No ma scusami A fianco a Bentancur Guarda che è il centrocampo Cosa ti piace di loro Li ha avuti anche lui Ma era una curiosità Volevo capire il suo Ma infatti Ma io Bentancur Bentancur Cioè li ha avuti anche lui Era semplicemente Un controllo Non te lo chiede con questo tono tendenzioso Era semplicemente Un controllo Come dire che cosa ci trovi Il mio pensiero Fu quello di Luigi Furini Per capire se avevamo Hai avuto cazza Rezza Ma lo so ma li conosco Hai avuto un saldo Anche tu li hai avuti E poi Quello che non hanno avuto Ma che hanno cercato Extra Legis Suarez Sono andato a cercarlo Extra Legis E ti chiede anche Che cosa ci trovi Capito? No ma non ci risulta Una trattativa in corso Tra Juventus e No Suarez No Suarez È un grande giocatore Suarez Gioca nell'Atletico Madrid La Mi sembra un po' in calo Però C'ha anche i suoi anni Però questa partita qui Che ha fatto vedere Paraguay-Uruguay Finita 0-1 Con Luis Suarez Comunque Quando deve timbrare Il carattere Stiamo parlando di Luis Suarez È un giocatore pazzesco Cioè Gioca nell'Atletico Madrid È giocato al Barcellona Stavamo facendo vedere Invece la scheda Di Frattesi Davide Frattesi Secondo te Suarez È un blocco? No Romano Ma ha perso pure Sei mesi a studiare Esatto Cercate di non andare Per conto vostro Però di seguire Un attimino Quello che stiamo dicendo Davide Frattesi Romano Di scuola Primavera Roma Arrivato a Sassuolo Dopo varie esperienze In SREB Fra cui Monza Leggiamo Insomma Qual è stata La sua stagione Perché di Scamacca Magari Si conosce di più Anche per le gole 22 presenze 4 gol E 2 assist In Serie A Una presenza Anche in Coppa Italia Però ha giocato Solo una manciata Di minuti Ventina di minuti Giocatore che si è preso In mano al centrocampo Del Sassuolo Comunque ha fatto bene Ha fatto anche 4 gol Chiedeva ordine Chi è il procuratore Non so se lo segnala Direttamente L'Inter In uscita Abbiamo detto Chiudiamo Il discorso Sul Uruguay Mi conferma Cuomo Che da qualche mese È diventato riso Una cosa recente C'è anche Vidal Che l'Inter Vorrebbe Magari tagliare Per via Del stipendio Altissimo Quindi se escono Vidal E Vecino Ci sta benissimo L'ingresso Di Ah è uscito Anche Sensi Poi vedremo Se tornerà Questo non si sa È andato alla Sampdoria Ad oggi Sensi È andato alla Sampdoria Quindi Ci sta che Prendi uno Al posto di due Anzi Neanche bastano E Non è che c'è Meravigliazzo Se la Sampdoria recupera Sensi Certo che torna Lo riprende È in prestito Prestito secco Sì sì Potrebbe Io Dico la verità Non l'avrei neanche Dato Perché Sensi è quel giocatore Che Quando c'è stato bisogno L'ha fatto giocare Come seconda punta Quest'anno Con il Genoa C'era soltanto Dzeko Perché Lautaro Veniva Era l'unico Che può giocare Come sostituto Di Brozovic Sì È un po' Fisichino leggero Perché Uno ti tocca Lui cade per terra Non ha Sto fisico Strutturato Però No come seconda punta A fianco di Geco Comunque È andato via Auguri E basta Non è che possiamo Studia E gli ingressi possono Ci sta benissimo Frattesi Al posto di Vidale Vecino Strano però Che dal Sassuolo Poi 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 C'è una corsia No dillo 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 No c'è una corsia preferenziale No dico Strano Che dal Così Che ci sia Ma è vero che È vero che Il carnevale Il presidente L'amministratore delegato Direttore sportivo Del Sassuolo È amico di È amministratore delegato Sì È amico di Di Marotta Però attenzione Che le azioni Le azioni Quindi Chi ha in mano La società Chi comanda Chi mette i soldi O ritira la cassa Sono i figli Di Sì Di quello che c'è Poi voglio dire Squinzi Di Squinzi Perché Locatelli È andato alla Juve Giusto perché La Juve è andata sul procuratore Locatelli ha sempre tifato Juve Se no Ma certo Se no andava lì E di fatti I figli di Squinzi Che mandano avanti La L'azienda La bottega Non del Sassuolo La bottega Della chimica Della Sono molto attenti al denaro E sono Manager molto capaci Le cose vanno molto bene E quindi Sono E quindi Non regalano niente E quindi Di Scamacca E quindi Scamacca Alla fine Poi uno le guarderà Se è carnevale E volesse regalarlo A Marotte Che sono amici I signori Squinzi Mi sfuggono il nome di battesimo Vogliono bonifico E vogliono 40 milioni Che l'amicizia Arriva fino a un certo punto No Mimmo Giorgio Ci può essere amici Quanto si vuole Ma se il tuo amico Zanforlin Ti chiede Di vendergli la tua macchina Offrendoti una cifra E di quella Tu dici no Anche se sei caro amico No C'è un problema a monte Io non sono amico di Zanforlin Quindi nessuna trattativa L'affare non si fa Non si fa a prescindere Si è partito proprio male Ma se sei una macchina Un tipo come Mimmo Pesce No no Non credo Non fa per te Va bene L'altra novità di giornata Che riguarda l'Inter Magari parte dopo 20 metri Si sgonfiano le ruote È il fronte rinnovi Il fronte rinnovi Molto importante Soprattutto per quanto riguarda Brozovic Un tire molla Che va avanti Insomma da qualche settimana Già prima di Natale Sembrava se fosse tutto Indirittura d'arrivo Cosa che non è stata Brozovic Si sarebbe convinto A firmare Accettare quindi La proposta dell'Inter Discorso diverso Va fatto però per Perisic Che è un altro Quasi veterano ormai Della vostra rosa Perisic va in scadenza giugno Prende 5 milioni all'anno Con la cifra ovviamente L'Inter non ha la minima Intenzione di rinnovarlo Per te sarebbe giusto Non dico Di arrivare ai 5 Ma comunque Cercare di tenerlo Cercare di fare una trattativa Ormai data l'età Ha dato quello che ha dato Eccetera eccetera Cercare di trattenere I trovatori migliori Ci dovrebbe fare sempre Poi Brozovic Perché poi di laccio di Marco Arrivato Gosens Inizia anche a esserci poco spazio Su quella fascia lì Esatto E poi Perisic ha 33 anni Ce lo immaginiamo in partenza Quindi Cioè lui Lo so che vorrebbe Rinnovare a lungo Per tanti soldi Però poi Le società Dicono lì Ma per dire tutti Quando c'è una certa età Fare contratti Soprattutto lunghi È impegnativo Perché poi ti trovi Come la Roma con Totti Che all'alba dei 40 anni Era ancora lì A prendere Amico mio Ce n'è più Quindi 33 anni Non sono tanti Però Non sono neanche 25 E quindi L'Inter fa un'offerta A ribasso Per un tot numero di anni Lui spera di andare Al Forsberg Che è la squadra Della Volkswagen A proposito di soldi Visto che La Volkswagen Cos'è Non è fallimento La Volkswagen Però 5 milioni Credo che non li prenderanno Anche al Forsberg Magari avranno un'offerta Superiore a quella Che farete voi Anche perché L'arrivo di Gosens Fa pensare Che Però ecco C'è Il Forsberg è una bella squadra Però Non vince il campionato È lì a metà classifica Tutti gli anni Sta lì a fare il suo Nell'Inter L'anno prossimo Lo vince La Juve D'accordo Però Voglio dire Se sta l'anno scorso Vito lo scudetto Quest'anno Speriamo Vada bene tutto È una squadra Diciamo di vertice Tu comunque vedi Due scudetti inter In mezzo al regno Juve Che riprenderà L'anno prossimo Hai sentito Zanforli Io fossi Un giocatore dell'Inter O vai al Bayern O vai al Liverpool O vai al Manchester O vai al Real Madrid E allora Tanto di cappello Ma per andare via dall'Inter Andare in una squadra Metà classifica in Spagna O metà classifica in Inghilterra C'è chi guarda il portafoglio E non magari le ambizioni Soprattutto superati i 30 anni Non vorrei Ma sai che Quelli ricchi Non sono mai ricchi abbastanza È vero Più ne hai Più ne vuoi È vero Guarda cosa succede A quello di Amazon Quanti soldi fa Però attenzione Perché poi viene L'effetto Lukaku Qual è l'effetto Lukaku Che dopo L'effetto Lukaku Che dice Vuole tornare Perché qui Sentiva Mato L'Inter è ancora in testa La classifica Eccetera E lui è andato lì Uno dei tanti E dei tanti Perché è tu Sì La differenza è che Lukaku L'Inter oggi Lo riprenderebbe Probabilmente A condizioni favorevoli L'Inter lo riprenderebbe Il problema è che Non c'è il politico All'incontrario Mentre L'Inter riprenderebbe Il giocatore Ma se il Cessi vuole Indietro i soldi Questo sicuramente Non succede Guarda intanto Come abbiamo inserito Gossens nella tua squadra Eccolo qui Gossens ricordiamolo Che avrà bisogno Ancora circa di 15-20 giorni Per tornare ad allenarsi E poi il periodo normale Che serve per Riacquestare la forma Ci si può immaginare Di riuscire a vederlo In campo Sì Un mese e mezzo Abbondante Circa due Ancora da oggi No forse anche Qualcosina meno Pasqua Comunque Questa era l'Inter L'abbiamo visto Fermiamoci per la pubblicità Rientro Dobbiamo parlare anche di Milan Con un paio di tentativi Last minute di oggi Non andati Pare per il momento A buon fine E poi Andremo già a vedere L'ipotesi Di formazione del derby Con che sì Che potrebbe essere inserito Tre quartiste Quindi nei tre Dietro poi L'unica punta Arriviamo Rieccoci in diretta Ci sono novità Che riguardano ancora La questione Van de Icardi Ma hai qualche messaggio Prima da leggere Sì sì vi leggo un paio di messaggi Questo telespettatore dice Fatevene una ragione La Juve quest'anno aggiusterà la stagione Il prossimo Comanderà come nel suo DNA Ancora da casa Questa tifosa nerazzura Abbonata Anzi nerazzura Dice Trovano sul mercato Mi tengo stretto Lautaro Fa un sacco di lavoro sporco Ha dimostrato di tenere all'Inter Sudibala Dice che resti alla Juve Va dall'estero Perché dovrebbe venire da noi Quindi non lo vuole Questa Telespettatrice Tifosa nerazzura Siamo in periodo di pausa nazionale sudamericana Ogni buona telenovela sudamericana Non ha mai fine C'è insomma l'ennesimo capitolo Che riguarda Van de Icardi Aggiungiamo un'altra puntata Perché è successo Tutto nella scorsa notte Mauro Icardi Ha smesso di seguire Vanda su Instagram E Vanda che cosa ha fatto? Ha postato questa storia In cui ha la mano sinistra sul viso E fa vedere che non ha la fede Guardate c'è il tatuaggio Mi sa che c'è scritto anche Mauro Ma non ha la fede Allora Mauro ad un certo punto Che cosa ha fatto? Ce lo riporta il Corriere dello Sport Si è cancellato da Instagram Quindi attualmente Mauro Icardi non è più su Instagram Vanda Nara ha cambiato foto del profilo Ha una foto da sola E soprattutto non indossa più la fede Beh ma sta cosa va approfondita Ci vorrebbe un approfondimento Un quarto d'oro Un caso Federica Non lo so Ce lo vendono così Ve lo riporto come ci hanno venduto Io suggerisco questa cosa Dalle 23 a luna Con Michael Cuomo Potresti a sorpresa inserirti Anche se l'hai sempre visto E approfondisci per due ore E poi fino a luna Con Michael Cuomo Puoi anche seguire qualche aereo Che sta arrivando in Italia Guarda un po' come ci siamo messi con gli aerei C'è sempre un aereo Ti giro il sito poi Allora questa era l'ultima puntata Di una telenovela Che sicuramente non finirà qui Avremo tanti altri capitoli Dobbiamo parlare del Milan Però c'è stato oggi Qua chiedo soprattutto Sumo ordine Qualche tentativo Di colpo last minute Nel pomeriggio Si era diffuso il nome di Loselso Che è un centrocampista Del Totten Che ovviamente avrà meno spazio Con l'arrivo di Bentancur Più Bentancur Che Coluseschi Perché più insomma Un centrocampista Che gioca in mezzo al campo Mimo tutto bene? Tutto bene Sì Telecamera Eccola lì Saluto anch'io da dietro A questo punto Oggi sarà diffusa la notizia Di un possibile tentativo Sullo Loselso Anche Schira Prima ci ha detto Che è un tentativo Che non sembra arrivato A buon fine Non so se assuma ordine Risulta qualcosa In questo senso Si è parlato Poi in serata Anche di Renato Sanchez Di un tentativo Di anticipare La trattativa Con Renato Sanchez Già adesso Anche qui pare Che non ci siano riscontri positivi Il Milan rimane com'è Non dobbiamo aspettarci niente In queste ultime ore Secondo me no C'è un no secco Ordine Non c'è possibilità No perché Tifosi del Milan Rimarranno un po' Con questo amaro in bocca Da questo mercato invernale Sì Anche se C'è diciamo La promessa Che Non fanno investimento In questo mercato Perché non sono Diciamo tra virgolette Possibili Non è possibile Centrare gli obiettivi Ma Evidentemente Puntano a quelli Del prossimo Mercato estivo Poi bisogna capire Vedere Se la squadra Regge Diciamo Soprattutto Credo Non tanto Per Il centrocampo Perché adesso Rientra Dopo Benazè Rientra anche Che sì Ma Che giocherà già nel derby Tra l'altro Probabilmente Da tre quartista Vedremo dopo anche la formazione Ma Il difensore centrale Furini Io volevo aggiungere Io Questo giocatore Lo Celso Si pronuncia Lo Celso Lo prenderei subito Anche a me piace molto Perché Lui è di Rosario Rosario è la capitale Indiscussa Mondiale Del calcio Il paese di Messia È la città di Messia È tra di Messi Icardi Che a loro non piace tanto Bielsa Quindi già solo per la provenienza Samuel Che giocava nell'Inter C'è una sfizza Di giocatori Che hanno giocato in Italia Cioè lì si respira calcio Nelle strade di Rosario Dici tu si impara a giocare bene C'è un fiume Che dì la città Sono due squadre Pensa Luigi Che è tutto un mercato Poi anche Cerevara Cerevara Che non è uno Finisco Che non è uno che Però è un grande tifoso È morto Era un medico Poi ha fatto un'altra carriera Cerevara Cerevara E sta parlando dei suoi idoli Cerevara Non è che era uno È morto Cerevara Era Perché lui giocava in porta Poi si era fatto male Una gamba E ha smesso Poi era da Garibaldi Alessandro È tutto il mercato Che il Tottenham Sta cercando di piazzare Lo Celso Che a Conte non piace 233 minuti in Premier Sì 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 Non piace È un ottimo giocatore E lui giocava nel Betis E infatti Ha cercato di inserirsi Nella vicenda di Lo Celso Monci Che farebbe il colpo Di portare al Siviglia Un ex giocatore del Betis Quindi insomma Sarebbe una cosa Anche loro particolare Ma che caratteristiche ha È un Ma questo Lo Celso Vediamo qua Che caratteristiche ha Direttamente era trasfermata Anche la sua collocazione In campo È un centrocampista In piazzazione È una mezzala È una mezzala Box to box Può giocare anche da trequartista Sì esatto Sì È Diciamo Un trequartista Non che sta dietro Per questo dicevamo prima Che l'arrivo di Bentancur Ovviamente porta All'uscita È diverso da Bentancur Sì no Però diciamo La zona in campo è quella Difficile Sono due giocatori diversi Italiano 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 Oddio Chi gioca in Italia Che possa rendere l'idea Di Lo Celso Chi potrebbe essere Lo Celso Giovanni 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 Ma lo stesso Voglio dire Lo stesso che sì Cioè Non il che sì Non il che sì Come? Barella 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 Frattini Ah ok Ok Giusto per capire Quali che stanno fare Le due fasi Io non lo conosco proprio E comunque parliamoci chiaro Però è un giocatore Che ha disatteso Non sta nel suo schermo Però è un giocatore Che ha disatteso Un po' le aspettative Perché attorno a questo giocatore Si aspettava una grande cosa Loro l'ha pagato Il Tottenham L'ha pagato tantissimo Soprattutto nel periodo Di Pocettino Quindi è saltato Lo Celso Lo Celso Non c'è più nessuno Non ci sono Non mi fa niente Non è disponibile Lo Celso Di questa operazione Tu cosa fai? Ma credo che vogliono Tanti soldi Anche perché In Napoli Ti pregherei Anche perché ci importa Anche il Villareal Alessandro ti pregherei Di andare a guardare Su qualche sito Eccetera Ma io l'ho saputo Da Gianni Bomba Il Napoli Ha rinunciato A un'offertona Incredibile Per Cuba Libre E Fabian Ruiz 150 milioni Dall'inglese Per darli via adesso Darli via adesso 150 milioni Tutti e due Andiamo a vedere La formazione possibile Del Milan nel derby Anzi facciamo così Fermiamoci per un minuto Al ritorno la vediamo Così abbiamo un po' di tempo Poi se tu vuoi rimanere qui A parlare A approfondire il caso Van De Icardi Sei bell liberissimo Sai che siamo qui Fino a luna Con Michael Cuomo Al ritorno Veniamo alla formazione Del Milan Con questa ipotesi Che prende sempre più piede Di un Chessi Trequartista Quindi non nei due Mediana Ma più avanzato Arriviamo Allora Rieccoci in diretta Andiamo a vedere La formazione possibile Del Milan nel derby Con il ritorno Di Chessi Dalla Coppa d'Africa Chessi che potrebbe Usiamo il condizionale Ma è una probabilità Essere inserito Da trequartista Al posto di un Brian Diaz Che nelle ultime settimane Questa è la signora formazione Non ha convinto E quindi che si potrebbe essere Il trequartista Di questo Milan Nel derby E questa è la signora formazione Che sì Che so che Suma Non ama parlare di Chessi Ultimamente Ma io devo fare il mio mestiere Oggi la gazzetta Perché In che senso non ama No So che ultimamente Il tema Chessi È un po' stufato È vero questa cosa Se non ha stufato voi Secondo me Non vuoi In generale In generale Dovrebbe essere stufato Ovviamente Finché non si arriva a un epilogo La gente magari Vuole continuare a sapere Comunque al di là di questo Oggi la gazzetta dello sport Scriveva Era una formula molto strana Era nell'articolo Ha cambiato squadra anche oggi? Era nell'articolo di Frattesi Con una formula molto strana L'ho letta prima In redazione Federica Sì Scriveva Non sono queste le parole Prope esatte esatte Ma qualcosa del tipo L'Inter non ha perso Le speranze Di poter convincere Che sia Fare il salto del naviglio Come c'è la Noglu Bene Questa è una formula Che Insomma Cosa vuol dire In linguaggio giornalistico Quindi i nostri giocatori Vuol dire un po' tutto e niente Io l'ho letto Ho detto Boh la racconterò Però non è che ho molto Diciamo che io ho ascoltato Tante lezioni Tanti sermoni Per cui abbiamo tutti I giocatori scarsi Però vedo che i nostri giocatori In giro piacicchiano Comunque insomma Dovesse riuscire A mettere in campo Davvero questa formazione Mimmo Non so se ironicamente C'è una signora No poi Se ci sono le manovre di disturbo Su un nostro giocatore Prima di una parita importante Di Juventus-Milano Le manovre di disturbo E abbiamo vinto 3-0 a Torino Bisogna stare attenti In ogni caso Che si insomma Viene considerato appieno Ovviamente Un giocatore Ma questa mi sembra La formazione tipo Tipo addirittura Però non è garantito Che recuperi Tomori Tomori non è garantito Però al di là di Tomori Che è una questione Proprio Fisica Atletica Insomma Di recupero Per il resto È chiaro che l'idea Di che si trequartista Non è peregrina Insomma L'ultima parita Che ha giocato nel Milan Anche sì A Empoli L'ha fatta da trequartista Potrebbe non essere Neanche solo un caso Del derby Ma una soluzione Da utilizzare Nel proseguo Della stagione L'unica cosa Che mi sento così Alla domenica sera Di dirti È che Quella della nostra formazione Sarà una lunga settimana Può succedere di tutto Quindi ci dici Il derby che si giocherà Sabato alle 18 Non credo che l'interprenderà Che sì Però È il discorso Che abbiamo fatto Prima di Di Bale Di Lautaro Se non hai i soldi Devi vendere i giocatori E prendere i parametri zero Sperando che ti vada bene Allora Che sì È uno Abbiamo detto prima Di Bale un altro Ragazzi Sono idee suggestive però Voglio dire L'inter Chissà perché Si parla oggi Di questa Di questa Eventuale Ma proprio Eventuale Azione Dell'inter Che sì È un'azione di disturbo Beh a maggio C'era stato Prima di Juventus Milan C'era stata un'azione Pesante di disturbo Su Donnarumma O ce la si è dimenticata Eh no Io penso che per le società Prendere i giocatori a zero Sia Un 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 fallimento Finanziario Non parlo di calcio Sempre Bah 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 Le società hanno a bilancio I giocatori Per il loro valore Presunto Sì ma se tu l'hai portata Da molto a meno L'hai portata Ma come mai Secondo te Luigi Se parliamo Adesso poi Sto facendo un discorso Che i nostri tifosi Si incazzano Perché Però facciamo un discorso Finanziario Come tu ci invitavi a fare Prima in relazione Agli interventi A caccia Come mai Rispetto a tutti Questi fallimenti Finanziari Che il Milan Ha fatto Ad esempio Non parlo del Milan Io parlo del Milan Sì ho capito Ho capito Io parlo del Beh dovremmo parlare Del Napoli Che perde il segno Dell'Inter Che vanno a via Vessino a zero Per dire Perisi Allora Io parlo del Milan E ti faccio questa domanda Come mai Secondo te Donnarumma e Cialanoglu Stando al tuo discorso Sono due fallimenti finanziari Dovesse partire Che sì Sarebbe Un altro Come mai però Nonostante tutti questi fallimenti finanziari Se parliamo solo di finanziario Di anno in anno Il bilancio del Milan Migliora E si risana Eh? Eh? No Il Milan Ha trovato Un discreto portiere Al posto di Donnarumma Non l'ha completamente sostituita Secondo me Però io non parlavo di campo Eh però Però Se Allora Mauro Se il Milan Perché ha fatto delle operazioni Intelligenti Se il Milan Se il Milan Ha preso dei giocatori Bisogna inevitabilmente parlare anche di campo Ha preso dei giocatori buoni No lui parlo di soldi Ha speso e ha speso relativamente No lui parlo di soldi No lui parlo di soldi Io dico se il Milan Due anni fa Avesse venduto Donnarumma Avrei realizzato una bella cifra E avesse venduto C'è la nobile Ti correggo Ti correggo Perché se due anni fa Il Milan avesse venduto Donnarumma Probabilmente non sarebbe andato in Champions League Avrebbe perso 50 milioni No stiamo parlando di soldi Stiamo parlando di soldi Stiamo parlando di soldi Perché il Milan Perché il Milan Luigi Perché il Milan Diciamo Ha avuto tanta pazienza L'anno scorsa stagione Perché il Milan ha avuto tanta pazienza Perché voleva andare in Champions League Fammi finire Il Milan due anni fa Avrebbe venduto Donnarumma Poi tu mi dici Ah no Poi Donnarumma ne prendeva un altro Perché non gioca senza portiere Prendeva Mignan O suo fratello minore O suo cugino Un altro Un altro portiere No è chiaro E al posto c'è la Noglu Un altro Però se tu metti via Si diceva qui Di Donnarumma qualche anno fa Quanto può valere? 80 Ma che 80 Vale 100 Luigi però Mi dici Però Luigi Se tu parli nello specifico di Gigio Tutto il mondo del mercato Sapeva Che Gigio Donnarumma Non sarebbe mai stato venduto Sì ma adesso Perché doveva arrivare a te Allora Allora Voglio sentire anche ordine Donnarumma Sto scrivendo intensamente da minuti Neanche Sarri in panchina Scrive tanto come te No perché Cosa ti appuntavi? Su Chessi Sentivo stasera qualcuno dire Se il Milano avesse dato 8 milioni A Chessi Chessi avrebbe firmato con il Milano Fatta scoperta Tra due giorni che si sarebbe libero di firmare Esatto Non la banana Un grappolo Un gesto di banana Un casco di banana Allora Anche qui vale lo stesso ragionamento Che è stato fatto in precedenza Allora Chi fa ragionamenti Diciamo Di natura Economico Finanziaria Ragiona così E dice Quanto vuole che sì? 8 milioni Quanto è per la società? 16 Quanti anni Vuole il contratto? 4 5 E sono Più di 64 milioni Benissimo 64 milioni L'ordine Quanto vuole il suo procuratore? Il suo agente? 8 milioni Diciamo che vuole 2, 3, 4 milioni Quindi andiamo sui 70 milioni Allora Tra l'altro il suo procuratore è Un procuratore un po' tra virgolette atipico Perché è uno che ha come unico giocatore Che sì Se non guadagna i soldi Se deve monetizzare tutto da l'estero Se non guadagna i soldi da che sì Deve andare davanti alla chiesa col piattino in mano Ora Io dico Con 70 milioni Secondo voi Si può fare una operazione Non dico di trovare uno più forte di che sì Io dico uno di pari livello Magari con qualche anno e meno O anche meno ma di prospettive più giovani No, sugli anni di Cassino Io parlavo di anni effettivi Io parlavo di anni effettivi Però scusate È vero che lo dici tu È lo stesso discorso della Juve Dice io risparmio lo stipendio di Dybala Che vuole 8 Per 2 fa 16 Per 5 anni fa 80 Con 80 milioni vado a prendere Vlaovic E' vero Però il problema Ma lo dico per tutti in generale È di non arrivare all'ultimo minuto Con il Milago che si Con l'Inter Cialandano Vecino e Pergi Sì Chiudi che mi devo fermare Cialomagnoli Che si Io voglio fare un altro ragionamento Mi devo fermare Pubblicità tassativa un minuto Scusate Torniamo Siamo in conclusione Io sono contento soprattutto Perché poniamo fine Vieni Vieni qua in mezzo Poniamo fine allo strazio Serale Che abbiamo causato A questa persona qui vicino Ovvero Mimmo Pesce Dall'inizio insomma Ha sentito colpi di mercato Di chiunque Lui purtroppo Si ritrova Senza nessun nuovo arrivo a Napoli E Napoli non se ne è proprio parlato Ha già dato per scontato Che il quinto posto Sarà del Napoli E quindi la Juventus E il Champions Non succederà Altre cose brutte? Domani piove Tra l'altro a Napoli Non c'è neanche bel tempo Non c'è neanche bel tempo Fa freddo Esatto Culliba lì e Ruiz Sono rimasti però Sono rimasti Fino a giugno Poi se ne va Anche lì Vabbè Se volete spendere qualche parola buona Mandateci messaggi Lettere Momenti d'affetto Non si scioglie il sangue San Gennaro La disgrazia Si scioglie anche quello Siamo finiti Comunque Mim È già pronto per andare a casa Insomma nel suo dramma totale Di questa serata Io comunque ti ringrazio Per essere sotto con noi Nonostante Le premesse Non erano delle più positive Grazie anche a Federica Di Bartolomeo Grazie a Alessandro Ringraziamo Mauro Sumo Buonanotte Ringrazio Gigi Furini Buonanotte Con noi con Michael Cuomo Franco Ordine E Orfeo Zanforina Ancora per tutte le novità Di mercato Io vorrei chiudere Se posso Con una carezza Mim Perché mi sento anche Un po' colpevole Insomma di aver parlato Del mercato di tutti E come dire Avete causato questo davvero Piccolo tuo dramma personale Mim Forza La vita va avanti Perché magari Qua si è parlato Di l'occesso Ma io Sull'occesso Vorrei approfondire Approfondiamo Esatto Grazie a tutti Buonanotte Mi raccomando Una parola di solidarietà Da tutti Per Mimmo Pesce Ciao Un programma in collaborazione con Una parola di solidarietà Una parola di solidarietà Per Mimmo Pesce Per Mimmo Pesce